buongiorno 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 scusate il ritardo c'è moro che ha deciso di rompere internet tutto tutto mio nonno ha deciso di rompere il software classic moro la http ha rotto backslash due volte allora fammi vedere adesso ragazzi arrivo è ci si ve lo dico io forse a me twitch l'altra volta ho mandato anche i video a gatto c'era la finestra di accetta cookie e non mi cliccava cioè io cliccavo accetta e non c'è si illuminava il tasto e non succedeva niente e la la schermata di accetta cookies è gigante e non puoi scrollare col mouse quindi avevo solo una porzione della mia dashboard e non potevo neanche cambiare il titolo della live e quindi ho dovuto usare edge per una live pazzia e getto e c'è forse perché siamo abituati a chrome ma edge e follia c'è tu lo apri che in realtà adesso è edgy chrome però è perché edgy in realtà andrebbe tutto sistemato come hai sistemato chrome ai tempi esatto c'è dovrei riabituarvi eccolo qua in bianco e nero eccolo qua eccolo qua buongiorno è lorenzo aspettate che allora faccio edgy bastardo che dobbiamo registrare gatto posso dire che è fastidioso veramente un rottura di coglioni se volete verare le robe di qualità dovete soffrire se no venite tutti a casa mia e registro che merda il number one podcast su spotify non perché registro voi proprio per quello invece sento le mie scorreggio ma non è quello il punto è che si sente de merda se no ci avevo provato a registrare che voi si senti perché cosa vuol dire che si sente di merda e che non si senti quanto di merda sentirà come mi sentono in live ma ti si sente ma tu hai allora carima c'è questo problema che ha la voce fortissima rispetto alla nostra quindi se non lo abbasso ci ci sovrasta completamente perché non lo abbassi ma abbassami prima no lo stesso perché proprio è una specie di compresso ma io vi sento bene e si sente bene anche in live però non per di coglioni registrate che merda 2 3 ma adesso si sente la mia stufa che appena partita ti è gatto ti è ma un dito medio stampato in 3d era di ceramica ceramica era di di come si chiama la strada di napoli che fa le statue non mi ricordo abbasso il mio volume perché c'è un po di stufa e registriamo veloce moro che mi dà fastidio 3 2 1 via audacity audacity guarda io uso il registratore di suoni di windows comunque oh madonna pensa che stronzo sì che comunque ecco perché tu renderizzi subito perché io invece ci metto sempre quei minuti in più perché c'è coglione comunque dai si dice certo che chiamare un programma di audio audacity c'è che cazzo vuol dire ma perché e beh credo sia voluto non lo so benvenuti alla moca il podcast che ti d'occa cosa vuol dire non lo so non vuol dire mai niente che ti d'occa capito ma questa volta era peggio che ti d'ossa che ti d'ossa vabbè buongiorno e buona domenica amici ascoltatori a voi una domenica spettacolare oggi è nebbiosissima non dico per il tempo cazzo del tempo scusa adesso però non si può parlare di un cazzo ogni volta ti devi lamentare ma perché la prima cosa deve essere il tempo quanto devi essere italiano ma che vuol dire italiano scusa siamo umani ho aperto ho mandato le foto a karim tra l'altro stamattina di quanto tempo della nebbia della nebbia veramente non mi vergognate ha parlato quello con la copertina che cazzo vuoi tu dormi a quella vestaglia sì ma la vedo lì in basso a destra nello schermo la copertina questa qui è lilla con gli unicorni che si muovono al buio tu sei nelle braccia di morfeo quando noi siamo già svegli da due ore chi è che si deve vergognare qua effettivamente le braccia di morfeo quando io sono ancora sveglio per due ore e dov'è che sta l'errore ma è tutto a posto va bene così va bene buongiorno oggi perché vedevo il gatto che si stava smuccolando e lo faccio sentire oggi live post goti che poi sarebbe the day before l'hai provato tu moro no volevo provarlo venerdì però ho detto vabbè perché perdere tempo perché ho visto comunque vogliamo partire subito con quello sì vogliamo fare velocemente parlare dei giochi che sono stato stasettimana e poi andare analizzare un pochino i goti insieme o ma dimmi tu cioè se possiamo fare entrambi secondo me i goti sono stati quasi corretti incredibilmente nonostante parlare più ok di qualche annuncino ok sì 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 secondo me è stata una dei goti migliori di sono d'accordo quasi di sempre probabilmente ma non sia come premi che come in generale evento ma anche l'evento mi è piaciuto hanno fatto molto più oscar ed è andato via un po però all'ultimo terzo c'è stato c'è stato il problema che si sono tutti no si sono tutti lamentati che si è parlato poco degli sviluppatori dei videogiochi nominati che hanno vinto piuttosto che tutto il resto sponsor e ospiti è quello è vero però è stato l'ultimo terzo l'ho sentito un po di più un po più pesante sarà che era alle 4 di mattina per quello perché è stato lasciatissimo però era no un po più pesante teso come annuncio un po più su porifero era l'ultimo terzo fino a riprendersi poi alla fine alla fine l'hai visto in diretta l'hai visto il giorno non l'abbiamo visto in diretta ecco perché infatti noi noi belli no no però no ma in realtà non avevo solo perché ho fatto i miei power nap durante il giorno ma vai a cagare ma vai a nasconderti per favore power nap decisamente molti di power nap ha dormito otto ore ha dormito di fila l'ha chiamato power nap per arrivare poi alla notte ed è stato sono stato molto sveglio poi di notte ci credo però non è stata è stata proprio una bel un bel evento mi piaciuto anche come è intermezzi artistici e ci sono stati c'è stato quello degli eilung e tutti che abbiamo saltato vabbè perché voi fate cagare però in realtà sono stati bellissimi anche quello di alla wake dopo è stato bellissimo schippatissimo con la frase della disgrazia della creatività esatto infatti tutte le cose artistiche le abbiamo siamo lì per i videogiochi se volevo un musical guardatevi guardatevi la lista dei trailer merde no perché basta sì e vi leggete la lista dei premi godi ha vinto questo è la musica esattamente quello che è successo hanno fatto così hanno detto ha vinto questo poi questo poi questo che poi l'ho fatto lo faccio così dagli anni 90 quando registravo il bagaglino il giorno dopo me lo guardavo e quando iniziavano a cantare ballare schippavo guardavo tu registravi il bagaglino e andavo a letto sì non potevo guardare ma perché registravi il bagaglino che era una roba carina da vedermi giorno no non era così fare che c'era quello e guardavo quello cosa hai comprato ma avevi comprato registratore nuovo vi comprato e volevi registrare qualcosa perché se no ma no era una roba così da da vedere c'era una stronzata non ho capito se mi riguardavo fantaghiro all'infinito madonna c'erano le pere sul bagaglino però se dovessi ma io lo guardavo per pipo franco se dovessi mai trovare quelle videocassette te le compro no credo che fosse la stessa carino chissà cosa quale l'ultima cosa che registrato sarà dragon ball una roba del genere ma che va ti parla ma non avevo neanche il permesso che io che il bagaglino fosse registrato dai miei ma guarda che stiamo parlando ad avoli elementari col bagaglino guardavo sempre io il bagaglino appunto io non potevo vederlo tutto fino alla fine e quindi recuperavo io non l'ho mai visto e allora cosa vuoi cosa parli non hai mai visto il bagaglino ma c'erano le pere mi facevano un imbarazzo è giusto è vero molto vero ma in realtà mi hanno desensibilizzato moltissimo quelle cose lì credo cioè se vedo un paio di pere adesso sono abbastanza vabbè allora io per il problema nei genitori non tanto me le pere dei genitori no perché guardavi il bagaglino con ok si cosa abbiamo giocato allora partiamo da the day before si c'è che in realtà ho visto un pochino abbastanza le live però allora la mia esperienza è stata un hype gigantesco perché addirittura no inizialmente sì perché comunque lo stavamo aspettando tutti una settimana fa ma io non era hype vero il mio però c'era hype non per il gioco era hype per l'evento no per l'evento sì sì naturalmente naturalmente no perché io ho visto in giro per internet gente che sono sicuro quasi al cento per cento che fosse in serio hype per il gioco allora io io ero anche in hype per quello che sarebbe dovuto essere il gioco nel senso che mi sarebbe piaciuto tanto ma perché allora anche fosse uscito un po di merda se aveva il contenuto che doveva avere poi dopo cioè ovviamente non gli avrei dato due lire però dopo tutto quello che è successo cazzo ti viene voglia di giocarlo esattamente come ci aspettavamo siamo arrivati comprato dei one server pieni quindi è stato atlas 2 un puttanaio è stato sì poi quando siamo potete capire i dettagli moro i server erano costantemente pieni anche quelli non pieni ti davano un errore quando entravi ok quindi doveva essere semi vuoto per poter entrare si segnava all'home appena entravi che era riempito esattamente perché c'era gente che cliccava probabilmente se tu andavi in quello pieno ti diceva che era pieno se tu andavi in quello semi pieno ti dava un altro errore ti diceva è stato impossibile connettersi ti dava la speranza durava qualche secondo e se il nero durava di più eri lì e poi non era vero una volta entrato tu avevi questa cinematic che funzionava tutta di questo dottore che ti risvegliava dopo un incidente che era il tutorial in base a quanti problemi aveva il server avevi tu vari problemi per esempio io ho avuto il problema che nessuno ha avuto che è stato quello di svegliarmi e appena il mio personaggio era in piedi sono morto e quindi tu sei in una stanza con un dottore che ti fa un mini tutorial ok ti fa prendere uno zaino eccetera quando io sono morto lì prima del tutorial mi ha fatto spawnare dentro l'hub e io la missione era parla col dottore ma il dottore era in una camera finta di un teletrasporto in una stanza a parte si perché poi il dottore lo spostano e da un'altra parte lui quindi io sono rimasto softlockato immediatamente poi sono uscito sono rientrato in un altro server con molta fatica e c'è stato il bug che ha colpito tutti quanti una volta finito il piccolo tutorial devi uscire dalla porta del dottore che non funzionava e quindi tutti sono rimasti per un sacco di minuti bloccati dentro la stanza quello lì credo sia stato tipo una sorta di lag che non faceva aprire è probabile però però non era non funzionava proprio sono dovuto uscire e uscendo poi dopo non sono mai più riuscito a rientrare è stato è stato un cazzo di incubo rientrare poi sono siamo riusciti ad entrare che forse per me è stata la parte più drammatica perché parte tutto un giro di tutorial con parla con tizio parla con caio parla con la signorina ti raccontano tutto per superare le due ore moro esattamente esattamente il problema qual è che è una certa c'è la signorina che ti dice lascia tutto qui nel deposito perché se muori perdi tutto e lì capisci che il gioco non è un mmo open world come avevano detto e come avevano promesso ma è un extraction e poi sì e loro continuano a dire che non è vero i sviluppatori continuano a dire che non è un extraction c'è l'housing c'è l'housing però l'housing è una casa in un'istanza a parte come in palia il ranch lì ti ricordi palia? come in palia esattamente è uguale forca troia allora ma anche nei survival mmo perdi tutto se muori come dades cioè se tu in dades muori perdi tutto sì però non esiste un hub dove lasciare tutto in dades cioè è pensato sono gli extraction che fanno così sì c'hai la cassa alla base esatto solo che su Tarkov ce l'hai nel menu lì c'hai un hub sì in dades hai diciamo cioè si perde tutto perché l'obiettivo del gioco non è quello di luttare e tornare alla base e vendere perché qui l'obiettivo è fare soldi e l'unico modo per fare soldi è fare le missioni che sono cioè semplicemente fetch quest spostate di zona mamma mia ti dice prendi l'inalatore per l'asma la siringa dell'adrenalina lì oppure ti dice prendi tre batterie dell'auto di là come Tarkov ma una per volta tra l'altro tu non puoi prendere più di una o almeno io non ci sono riuscito no no solo una quest per volta non puoi prenderne più di una ed è proprio una una merda dicono che hanno rimosso il tag MMO da Steam sì 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 alla grande perché le recensioni la maggior parte delle recensioni è estremamente negative io non le vedevo da tanto tempo estremamente negative perché di solito i giochi che vanno male sono per lo più negativi le recensioni invece queste sono estremamente più dell'80% di recensioni è negativa e più che per i server all'inizio adesso è per il gioco perché il gioco è quello che che poi non l'hanno mentito hanno omesso cioè loro hanno detto no beh hanno detto survival MMO è open world cioè non è un survival MMO open world è più o meno in piccolo esatto è più o meno ma è open world? no c'è la mappa c'è la città la città è aperta è quella c'è open world nel senso che ha una mappa nel senso che c'è una mappa esatto Tarkov se c'era solo una mappa era open world esattamente esattamente tra l'altro ma i problemi sono ogni due secondi c'è una non un problema perché il gioco funziona tra virgolette i problemi sono di scelte di design e di sviluppo per esempio in questo extraction c'è la mappa che si sviluppa in verticale nel senso che è come se fosse Manhattan no? c'è il sud il centro il nord solo che tu devi muoverti a piedi con la stamina che si si toglie anche quando corri e la mappa è piccola ma è molto ingombrante da visitare molto ingombrante soprattutto perché le strade sono tutte in diagonale cioè le uscite è tutto verticale orizzontale ma le strade sono tutte in diagonale e hai dimenticato un dettaglio importantissimo non c'è la minimappa non c'è né la minimappa né una bussola non c'è niente per aprire la mappa devi fare l'animazione del personaggio che si inginocchia e tira fuori un tablet che guarda e poi dopo lo richiudi e riparti ma è troppo lento però Days è più esplorativo esattamente qui invece ci sono solo strade perché è tipo New York e devi andare in quell'edificio specifico quindi non è che puoi dirci vado verso nord o vado verso di là come appunto succedeva in Days quindi se tu sbagli vicolo devi rifarti tutto indietro e riaprire la mappa ogni sei secondi per aprire la mappa devi fare l'animazione di inginocchiarti e tirare fuori il tablet e poi togli il tablet e ti rialzi praticamente ogni via perché le vie sono in diagonale lui ti dice vai a destra ma non c'è destra nelle vie è tutto in diagonale quindi se tu entri in un negozio poi ti dici da che parte sono girato non ho una bussola devo andare a destra ma non ho una bussola quindi apri la mappa piano piano e la mappa non si regola tra l'altro in base a dove sei direzionato è fissa e quindi tutto è tutto al contrario devi ricordarti quello che hai visto nella mappa è ricollegarlo agli edifici però quando vai nella mappa ci sono altri giocatori ci sono sì è la dark zone di The Division tipo 10.000 giocatori no nei 10.000 saranno tipo essendo un MMO gigante allora la mia esperienza nel poco che sono riuscito a giocare è stato ho iniziato a giocare ho ucciso un miliardo e mezzo di zombie perché arrivavano proprio a Garganella me ne sono arrivati un botto li ho uccisi nel momento che ricaricavo arriva uno stronzo mi shotta e ho perso tutto l'arma buona questo è stato il primo giocatore che ho trovato poi sono riuscito a rientrare con molta fatica in un server vado in giro faccio raccolgo ammazzo tra l'altro dei mini boss giganteschi e gioco Crash e non sono mai più riuscito a rientrare mai più no no veramente mai più queste sono le mie due esperienze io invece lo sto realmente giocando ogni mattina sono a 6 ore penso che è scemo facendo le estrazioni e hanno già cambiato un po' le cose ogni singola missione prima ti dava mille adesso hanno cambiato e ti da 5 mila perché era così poco mille perché ogni estrazione dura una ventina di minuti perché la mappa è piccola ma complicata da girare il personaggio è relativamente lento devi stare anche attento un po' ma non solo io dove raccogliere 3 batterie da macchina e mi occupavano tutto l'inventario esattamente Moro c'è un problema grave con questo gioco ti spiego questa cosa ti spiego la mia prima morte stavo stavo sparando con un altro ci stavamo sparando e i colpi hanno attirato gli zombie ho finito i colpi e lì ho scoperto una cosa molto importante non c'è il milì se tu finisci le munizioni sei morto letteralmente tu ti devi importare un inventario con mezzo mezzo inventario pieno di munizioni perché altrimenti non c'è un colpo milì non c'è un accetta non c'è un pugno non c'è niente non c'è il milì in questo gioco neanche l'accetta che si ricaricava di days zero ma ricordiamoci questa cosa qui se tu muori perdi tutto se non hai più soldi non ti puoi comprare le armi se il soft lock così ogni volta che mori ti danno 500 monete che bastano per una singola pistola e bastano neanche le munizioni e allora forse una decina di munizioni e devi andare a lutare ci ammazzi 10 zombie no ma che ti piacerebbe tra l'altro l'eatbox degli zombie sono almeno 3-4 colpi precisi in testa per fargliela saltare se non sono precisi diventano 6-7 colpi per ogni zombie e muoio dopo qualche secondo tra l'altro quindi ne sprechi sempre uno di più con l'ultima pace hanno ricalibrato il network quindi leggermente e quasi subito muore lo zombie ok ok perché io un colpo lo spiega tre colpi in testa e il quarto gli esplodeva la testa ma era già morto in realtà certo e hanno fatto un errore tutti si stavano lamentando compreso me che gli zombie non c'erano cioè tu io ho fatto dei ride dove non ho beccato niente solo loot e poi sono uscito e questo è incredibile perché io invece ne ho trovavo proprio a cascata anche io all'inizio trovavo un botto di zombie le prime partite in live poi dal giorno dopo spariti tutti gli zombie allora hanno fatto uscire un aggiornamento dove hanno aumentato gli zombie ma adesso si è creato un altro problema non ho abbastanza munizione per ammazzare tutti gli zombie che vedo perché cioè dovrei riempire l'intero zaino di ah tra l'altro a proposito di zaino in questa enorme mappa in verticale ci sono solo quattro estrazioni Moro solo quattro due per i senza zaino e due per chi ha lo zaino e basta se tu non hai lo zaino puoi estrarre in due estrazioni se hai lo zaino devi per forza andare nelle estrazioni con lo zaino altrimenti non ti estrai niente di quello che hai con lo zaino che tra l'altro è spiegato malissima questa cosa qua perché ti dice estrazione senza zaino però vuol dire quello perché io pensavo che non ti portasse neanche niente del loot che fosse una roba tipo più rapida che esci da lì e scappi però non lo so anche perché io in una certa ho trovato solo l'estrazione senza zaino e l'altra non c'era verso di trovarla no no c'è che tra l'altro tra l'altro tutta la mappa tutti i puntini di interesse della mappa sono nel centro di questa Manhattan se tu vai a sud non c'è niente non ci sono punti di interesse quindi io non so cosa ci sia e tra l'altro non conviene andare a sud perché tutte le estrazioni sono centro nord quindi se io adesso la cosa che si fa è ti dà tre missioni tra cui puoi scegliere che ogni tanto si refresciano tutte le missioni che io scelgo sono in base a dove sono le missioni perché se sono a nord io faccio l'estrazione e faccio la missione e immediatamente estraggo se è a sud io non la seleziono neanche però sarà più remunerativa spero no no sono 5.000 5.000 5.000 sono tutti uguali sono tutti uguali quindi scegli solo in base a dove cazzo è la missione e tutto sono tutte scelte veramente del cazzo cioè loro non hanno ragionato sulle cose più banali capito il milì non c'è e le estrazioni sono tutte a nord quindi tu le missioni a sud non le prendi perché ci metti tre ore per tornare tre ore per andare perché ti fa spawnare al centro quindi tu conviene centro nord al sud non ci sono manco i punti di interesse non c'è niente tra l'altro hanno detto ci sono i veicoli ma li devi comprare costano 3 milioni contando che fai 5.000 ogni estrazione e poi quando muori esatto esattamente poi vi racconto vi aggiungo ma non voglio tenere perché potremmo parlare due ore solo di questo ci sono i veicoli che puoi comprare sono le auto quelle che si vedevano nel trailer 3-4 milioni costano se muori le perdi se muori le perdi sai come l'hanno sai come l'hanno scoperto perché ho detto come cazzo hanno fatto a giocare così tanto c'è un bug che ti duplica i soldi l'unico modo per cui sono riusciti a comprare non è molto comunque vabbè i soldi che hai nella cassa magari sì i soldi che hai nella cassa eh dai buono hanno comprato la macchina l'hanno persa persa beh certo ovvio fa parte del tuo zaino certo non c'hai l'assicurazione devi stare con la macchina scusami ma è palese che abbiano fatto un trailer anni fa hanno fatto un trailer che ha hypato tutti ma loro volevano fare un giochino del merda e basta per fare due spicci su steam e sono rimasti immischiati ci hanno anche creduto tanto gli ultimi trailer sono quello che è il gioco comunque l'ultimo trailer era vero sì e che non fanno vedere chiaramente i problemi del gioco in un trailer vabbè quello è ovvio però dico che ci hanno creduto perché c'erano tanti server non erano erano tutti pieni ovviamente però guarda che erano un botto Moro no sì non ci hanno creduto semplicemente l'hanno dovuto fare per mascherare la truffa un pochino perché adesso il gioco non è che è una truffa e che ha proprio cioè adesso che lo sto giocando esatto adesso ha delle scelte di merda non è una truffa secondo me secondo me loro proprio erano partiti col fare un giocaccio così solo che hanno fatto un trailer troppo bello e la gente si è ipata e è iniziata tutta la tiritera del no però loro loro hanno cercato di tamponare ovunque è vero che non hanno mentito apertamente così come No Man's Sky però il gioco doveva essere un MMO open world con lousing non è quello è il problema più grande non è quello il fatto che non sia Daze ma sia un extraction avessi saputo fosse un extraction non l'avrei neanche provato infatti io l'ho rimborsato la sera stessa perché anche fosse l'extraction più bello del mondo non me ne frega un cazzo non è il mio genere non mi piace forse è stato un Daze molto volentieri molto volentieri sicuramente è meglio non c'è la chat vocale è vero non c'è la chat vuoi premere F1 che dice frasi a caso sul parco non c'è la chat vocale certo che c'è e c'è il tasto con lo scav per parlare in russo è vero è vero e qui c'è solo il tasto per dire frasi a caso in inglese non c'è la chat vocale in un gioco dove dovresti collaborare per questo ti dico secondo me loro hanno cambiato rotta vedendo il successo di Tarkov a una certa secondo me all'inizio doveva essere un MMO poi hanno detto andiamo sul più facile esatto secondo me sono andati sul più facile basta il problema è appunto guarda sarebbe stato un filo meglio se non fosse stato Extraction il problema è che le scelte sono così tanto stupide tutte è tutto così stupido ogni cosa che fai dici ma minchia ma non l'avete testato non l'avete provato a vedere che è una merda fatto così il fatto che perdi l'automobile quando la compri 3 milioni il fatto che le cose sono due o è come dice Moro che hanno cambiato in corso oppure fin dall'inizio volevano fare l'extraction e hanno voluto fare gli splendidi mettendo roba un po' più fighetta ma a me va bene che è un extraction guarda ma non ha neanche il tasto Moro per alzare le mani per arrendersi non ha niente di quello che potrebbe essere social facendo pvp la chat vocale tipo la rende cazzo in little company puoi ballare e indicare col dito in un gioco del merda fatto da una persona indichi con un dito spezzato rotto poi puoi fare capito puoi indicare e ballare c'è la chat vocale ci sono le radio cazzo in little company c'è il suono ambientale in base a dove sei cazzo qua in un gioco pvp non c'è la chat vocale ma come cazzo ti viene in mente ma com'è possibile poi tra l'altro senza parlare dei bug che mi hanno costretto a giocarlo molto meno di quello che avrei voluto che ho mandato un vocale di aggiornamento a gatto perché stavo sclerando erano 5 minuti avevo 20.000 soldi nell'inventario stavo facendo le missioni entro nel server inventario vuoto del magazzino vuoto ho perso tutto quello che avevo tutto e mi era rimasto tutto quello che avevo nello zaino esco e rientro disperatamente nel server perché era vuoto esco e rientro nel server non avevo più avevo nudo ero completamente nudo neanche i vestiti e quindi tutto mi aveva resettato a come se avessi creato il personaggio da zero ho cambiato server niente ho perso tutto quanto ricomincio da capo e adesso ho un bug che succede ogni tot perché è un bug derivato dalla sincronizzazione del server adesso ho 15.000 monete ne prendo di solito mille per comprare quando muoio per comprare la pistola e le munizioni prendo mille dal magazzino vado nel negozio e nell'inventario ho una moneta e io ho detto forse ne ho messa una e non mille vado a vedere nell'inventario e me ne mancano mille perché si sincronizza male e me ne segna una invece che mille ma anche se ne prendessi 500 mi è capitato 4 o 5 volte questa cosa avrò perso tipo 5.000 tra l'altro hai aperto una piccola finestra su un'altra stronzata qual era non mi ricordo allora tu hai il deposito e lì ci sono i tuoi soldi tu hai il deposito e dove acquisti le cose è all'interno dello stesso hub ma quando devi comprare devi andare al deposito parlare con l'MPC ritirare i soldi come in banca andare dall'altro NPC comprare quello che devi comprare e poi dopo puoi giocare esattamente devo parlare con due NPC diverti che poi loro devono capire che deve essere una roba rapida tutto perché non lo puoi fare per centinaia di ore infatti Tarkov ha solo il menu no ma non è quello il problema è di proprio ritirare come in banca per andare a pagare nello stesso edificio a parte quello esatto tu non puoi avere i soldi nel magazzino per fare le cose le devi avere addosso che è una stronzata che posso capire se tu dovessi andare dentro il gioco è più rischioso perdi i soldi per comprare invece no è nella stessa stanza quasi vi riassumo come si fa perché poi loro non è che l'hanno fatta immediata sta roba no ogni volta che tu vai dall'NPC del magazzino ti dice una frase che devi schippare ogni volta una singola frase che devi schippare poi c'è il il fade del menu capito quindi tu fai nell'NPC del merda del magazzino dialogo schippa menu clicca apri il magazzino a scatti perché sincronizza tutti gli oggetti quindi va a scatti quando apri il menu premi shift per prendere soltanto 500 e non tutti i soldi esci dall'inventario corri dall'altro NPC dialogo da schippare fade del menu scambia tutti gli scatti compra le munizioni compra la pistola e ti rimangono tipo 120 monete e quindi tu devi tornare al magazzino posa le monete schippa solo per uscire io me le sono tenute quelle monete lì perché vaffanculo capito le perdo piuttosto in 100 monete ogni volta che perdi morendo non importa o che perdi sincronizzando no va bene va bene quindi c'è anche solo ci vuole un quarto d'ora solo per avere una pistola con 6 munizioni capito 3 ore no e poi esce e magari mori subito deve essere una roba rapida Tarkov già ha problemi di caricamento che ogni volta che devi entrare in un server ci vuole 3 ore ma se avesse pure ogni volta la corsa a destra a sinistra ma c'è capito non è solo una scammata è proprio un gioco del merda per tutti i motivi possibili immaginabili tutti c'è tutto quello che è successo nei due anni prima è soltanto un puntino si possono fare due ore di video su quello e due ore di video sul gioco è uscito quindi viene fuori un documentario infatti io lo farò io voglio fare sul canale principale un documentario perché io ho seguito tutto sì sì ma perché all'inizio volevi farlo sul canale di gameplay ma non ha senso merita veramente anche chi non ama i videogiochi deve si conosce viene fuori una cosa proprio apposta cioè i video che hai fatto su le robe ritrovate e robe così è uguale viene fuori una roba uguale ed è stato la mia prima è per questo che ho fatto la live evento perché è stata la prima volta il primo gioco dove io ho seguito ogni singola cosa successa nell'arco di due anni adesso ancora sta succedendo che hanno detto che hanno cancellato i tag survival hanno cancellato anche i tweet dove parlavano dell'open world credo sì ma loro poco prima una settimana prima dell'uscita Moro hanno tolto tre quarti dei video del canale di youtube che erano i vecchissimi trailer hanno tolto tutto hanno lasciato solo quelli veri e grazie al cazzo 6-7 guarda che ma anche dalle immagini che vedi adesso sto guardando anche le immagini qui non sembra per niente è un extraction su steam no ma non dicono niente cioè non dicono omettono tutto quindi boh io vabbè hanno già aggiornato che ovviamente l'aggiornamento è stato di quelli dove devi riscaricare l'intero gioco da 50 giga e poi il computer mi deve spacchettare rimettere deve spacchettare esatto quindi ci mette di più a spacchettare che a scaricare ci mette di più perché ti riscarica tutti i 50 giga e poi dopo deve infilarli al posto degli altri esattamente deve tipo sostituire tutti i file che è una roba terrificante però vabbè comunque passando invece al resto sì io questa settimana abbiamo giocato ho provicchiato abbiamo provicchiato lego fortnite ah giusto è vero come? no aspetta lego fortnite è proprio la modalità a parte dice lego worlds no non è lego worlds è un survival e valeim praticamente ok ma che figo allora graficamente credo sia senza credo è sicuramente il gioco lego migliore graficamente che c'è credo sia anche più bello di fortnite base sinceramente è proprio bello graficamente come come gioco è un survival che prende semplicemente da un sacco di altri survival devi tagliare la legna rompere le rocce per costruire costruisci il falò costruisci il falò metti il centro città e tutto perché ti arrivano anche gli NPC al tuo villaggio che si si infilano lì te gli dai anche il ruolo ti vanno a prendere risorse e robe del genere c'è un piccolo problema che da quel che ho capito solo in italiano con la fame perché non è possibile giocare con la fame perché se te mangi ti dà una tacchetta di fame su 20 tacchette credo e per uccidere una mucca te ne consuma due per dirti è un problema dell'italiano questo ha detto se lo metti in inglese non è così punitivo anche perché in italiano non è punitivo è terribile cioè non puoi giocare fortunatamente quando fai la partita puoi toglierla la fame e la stamina anche grazie a Dio ma sembra bellissimo non le armi che si rompono purtroppo però vabbè puoi togliere tutto comunque mi stai descrivendo Medieval Dynasty incredibile sta cosa c'è anche no non c'è non c'è il villaggio con gli NPC è più come su Terraria cioè arriva gli NPC che rimangono lì però non sono NPC che fanno robe che hanno una routine ma gli dai ruolo hai detto sì però gli dai ruolo come prendimi la legna e va a prenderti la legna è tipo i Juve Empires vabbè fa così Medieval Dynasty no ma in Medieval Dynasty c'è il villaggetto con le persone però non sto capendo la differenza però quando fai il villaggio tuo e gli dai arriva la gente non è che arriva la devi invitare però c'è anche però c'è anche il villaggetto con la gente che vive lì un po' come Skyrim nel senso sì perché è da lì che prendi la gente poi ma sta roba cioè come io non sapevo fosse questo la modalità di Lego di Fortnite ma sarebbe pronta la settimana scorsa non sta attento Moro non ti ascolta quando facciamo la moca io pensavo fosse una Battle Royale tipo tipo Lego Forza Horizon che è lo stesso gioco ma Lego no no è proprio è proprio Minecraft Valeim cioè vai in giro ci sono i nemici i boss sto guardando ma non lo sapevo proprio cioè io non sapevo che fosse così tanto survival proprio una modalità a parte completamente pensavo fosse ok e ci sono tutte tutte le skin che hai in versione Lego ci sono ma bellini ma che lavoraccio quasi tutte sono 1200 skin già fatte in versione Lego e le rifaranno poi pian piano tutte quante ma sono matti in culo ma perché hanno fatto sta roba perché è una modalità che rimarrà poi per sempre questa non è la classica modalità che poi tolgono ma è per fortuna addirittura adesso puoi loggare con l'account Lego su Fortnite sì sì ne avevamo parlato settimana scorsa ma infatti come dicono anche in chat sta diventando Roblox perché loro hanno una base ben più solida e hanno tutti i motivi per diciamo che è anche un po' più appetibile per tutti perché Roblox allora Roblox per quanto sia incredibile perché io lo uso tutto fatto di merda no più che altro è proprio fatto di merda cioè nel senso il gioco di base sì esatto se tu entri in un server non fatto bene Roblox hai il mouse bloccato al centro dello schermo prima di tutto poi non hai cioè non si gioca come un gioco normale si gioca come World of Warcraft nel senso che devi tenere premuto il tasto destro del mouse per girarti altrimenti hai il mouse che gira sai che quello è sempre stato il motivo per cui non ho giocato a World of Warcraft però ti abito all'inizio nel senso che ma World of Warcraft comunque non ha cioè è un problema così se ti metti prima però non no perché io perché all'inizio World of Warcraft quando l'avevo provato io per la prima volta ai tempi e volevo semplicemente un altro gioco io volevo un action RPG ah ho capito però e quindi sono arrivato su World of Warcraft con sto cazzi mouse che dovevo cliccare e girare scusa ma a dire poi della visuale del mouse non ti stava più sul cazzo come si attaccava a quel punto beh in generale sì quello lì il mouse come girava che dovevi cliccare comunque no dico anche su Ford in realtà se vai poi a prendere i server quelli fatti dalla gente spesso allora non sono così che sembra che ti si sta squagliando il computer però cioè sono robe di merda ne avevo provato qualcuna i tempi però sì per dire anche durante i game awards te ti dava ogni tanto Geoffrey il codice per entrare schippato tutto nel server di Fortnite per vedere da lì le robe però chiedo la gente diciamo la parte Roblox di Fortnite com'è la stanno sviluppando bene c'è roba interessante tipo qualche avventura da fare in co-op come in Roblox o è soltanto parkour mode construction mode però ci arriveranno credo qualcosina ci sia perché vedevo che ogni tanto pubblicizzavano le mappe fatte dagli utenti e qualcosina di carino ci sembrava però no ma stanno facendo esattamente come vi ricordo che io ho giocato con Chiellini a Roblox ricordiamo questa cosa qua non dimentichiamoci non dimentichiamoci perché importa fa curriculum questa cosa qui no più che altro abbiamo giocato in un mondo lavazza per fare l'ad di lavazza e hanno creato quel mondo come? sono cose tra virgolette ufficiali appunto no certo però Fortnite vuole quello scusa volevo arrivare al punto in cui vuole essere un metaverso esattamente bravissimo perché Roblox comunque è vero che è giocato da tutti i ragazzini e tutto quanto però però rimane quello rimane quello un parco giochi mentre Fortnite vuole essere un metaverso Fortnite vuole essere un metaverso più come lo vede meta bravissimo esattamente poi ho giocato anche l'altra modalità di oggi dovrebbe essere no ieri quando è dovrebbe essere uscita anche l'ultima perché erano tre modalità erano quella Lego quella di Rocket League che però è Mario Kart tra virgolette sì nel senso non ci sono i poteri però nelle piste cioè te giochi con derapate turbo e Karim si è spento che paura con derapate salti e tutto ed è molto bellina anche quella perché dipende ci sono delle mappe dei circuiti avanzati difficili dove devi saltare volare perché poi voli come su Rocket League anche volendo salti e poi sbatti contro il muro a destra e ti attacchi al muro a destra robe così ma ricordato più che Mario Kart robe del genere ho Twills per la Play 1 dove ci sono ogni tanto anche le scorciatoie dietro la cascata salti tu vai salti dal circuito vai di fianco oltre la cascata e tagli è molto carina bisogna vedere anche quello lì io sto guardando da quando l'hai iniziato a citare sto Lego Fortnite ed è incredibile è proprio un survival classico però ambientato nel mondo dei Lego però ha la mappa non Lego la mappa è Fortnite però non suona così tanto non suona così tanto credo che l'abbiano fatto per alleggerire un po' il tutto perché è un lavoro leggermente meno faticoso tra l'altro io ho visto anche ho visto anche robe perché noi l'abbiamo solo toccato appena all'inizio però se guardi il trailer anche quello che hanno fatto vedere i TGA è una certa costruiscono una casa una casa proprio gigante cioè vera praticamente con mille palloncini sopra che vola fighissimo ah sì la casa di app hanno fatto sì sì è vero oppure un razzo casettina razzo con appunto i razzi che la sparano in aria cioè è incredibile se tu pensi che questa è un'esperienza free in un gioco free sì sì ma è assurdo assurdo se ci pensi cioè è incredibile che tu l'unica cosa che devi comprare sono le skin sì e ti fai il tuo servo perché cioè non è un e quanti si gioca? ecop da otto ok buono puoi fare il server cioè tu tu crei il tuo mondo e ci puoi far entrare otto persone sì poi dopo lì cioè se tu non sei online non può entrare nessuno però ok puoi dare il codice agli altri per giocare quando non sei online hanno fatto una merda di sistema del cazzo nel senso che loro lo ostano quindi si scaricano l'aggiornamento del server e poi lo ostano loro oppure si scaricano e lo giocano e lo giocano in locale c'è il seed e il codice partecipazione che è il seed e il seed del mondo il codice è semplicemente per far giocare cioè quando sei offline tu far giocare anche gli altri quindi quando tu dopo arrivi si aggiorna però quel codice quel codice lì lo puoi dare solo a sette persone mentre tu invece se fai il mondo puoi entrare mille persone ma uno alla volta per un massimo di otto sì sette alla volta ecco sì però è proprio cioè sembra bello adesso sette alla prossima poi lo proveremo ben bene sì ho visto il trailer madonna gatto il trailer è incredibile no no poi graficamente è proprio bello eh sì peccato che debbano uscire un miliardo e mezzo di cose adesso affanculo vabbè con tutto quello che vogliono farci ci hanno fatto un survival che devi starci 70 anni non so di così eh deve uscire aspetta tanto house flipper 2 il roguelike di god of war ah quello lì e delasto vasa anche teoria eh dovrebbe uscire sì c'è la modalità la remaster ah sì guarda va bene con la roguelike anche lì hanno detto che è fighissimo hanno detto che è molto più di quello che la gente si aspetterebbe quella modalità lì poi vediamo so quanto me ne possa pregare no infatti meno di zero devo ancora finire avatar che in realtà ho giocato per poco e mi ha lasciato con un piacevole positività però devo ancora finirlo no devo uscire un botto di giochi indie che ovviamente non sto trovando qui nella mia lista vabbè ah comunque l'ultima modalità di fortnite che credo sia uscita anche quella ancora non l'ho provata è quella di guitar hero ah già è vero l'avevi già detto settimana scorsa ma è incredibile quella non so devo ancora provarla però non so quanto mi possa interessare ma poi dobbiamo anche riprovare Outlast Trials che hanno aggiornato un casino e e altre cose deve uscire però deve uscire quello dalla beta deve uscire Outlast Trials esattamente ah è un altro di gruppo nostro dovevamo ah Radio Ornotta Radio Ornotta esattamente che quello lì anche ho fatto vedere TGA e non pensavo fosse Radio Ornotta no mai anche io uguale anche io sì cioè sta cinematica incredibile ho detto e che e lui l'ha detto scherzando sarà Radio Ornotta perché lo ricordavo ma esatto io l'ho detto scherzando anche Get the Fuck Out però è che Get the Fuck Out è un gioco bellissimo solo che è troppo impegnativo e infatti hanno fatto uscire e poi non credo sia come l'hanno fatto vedere e infatti c'è l'Ital Company vedremo è che mi vorrei riprovarlo Get the Fuck Out solo che è troppo impegnativo impegnati l'Ital Company siamo riusciti con Lino fra Enrico ad andare nei pianeti a pagamento e guarda che è tosto fare i soldi anche solo a 500 per avere dipende noi abbiamo fatto tipo un pianeta si è riusciti a fare 600 in una botta poi siamo morti le altre due volte anche noi in uno dei pianeti siamo entrati nel retro dal retro con la porta Fire Exit e c'era un magazzino pieno di oggetti pieno zeppo e l'abbiamo portati via tutti senza nemici senza niente ma poi una volta siamo ricordati abbiamo anche imparato a guardare il meteo prima di andare in un pianeta beh quello si perché siamo entrati in un pianeta c'era la nebbia talmente fitta però rompeva il cazzo a noi per la nebbia stamattina che ne parlavamo vedi bello gatto parlaci di Medieval Dynasty stavo guardando gli altri giochi che dovevo uscire perché mi pareva che dal 12 al 14 dovessi uscire il mondo solo che non li trovo più allora ho giocato Medieval Dynasty Cop con Enrico un ragazzo molto simpatico seguitelo si chiama Henry su Twitch su Twitch sta facendo quasi solo Isaac su Twitch quindi non seguitelo no lui sta facendo il 100% di tutti e tre i salvataggi senza duplicarli lui è a metà del secondo salvataggio di Isaac perché hai scelto di non divertirsi come non divertirsi è il gioco più bello del mondo siete voi stronzi eh ma perché lì sei appassionato diventi il più grande esperto italiano di non credo comunque che succeda questa cosa però va bene allora Medieval Dynasty ha rilasciato il 7 dicembre la co-op mod con una mappa nuova diversa e devo dire non mi aspettavo un cazzo non mi aspettavo assolutamente niente mi aspettavo che fosse tutto rotto o che fosse una brutta copia del della modalità base però con gli amici mi pare si possa giocare fino a 4 non vorrei dir cazzate mi pare si possa giocare a 4 o mi ha stupito tantissimo in positivo perché il gioco è uno a uno con il gioco base ovviamente con un'altra mappa e gli altri personaggi però ci sono tutti gli NPC che ti danno le quest ti danno le quest sia singole che in gruppo quindi se uno la fa la fanno anche gli altri e tu puoi organizzare un intero villaggio però in co-op quindi ci sono più persone che invitano altre persone che poi le metti a lavorare esattamente come nel nel gioco base quindi tu gli semplicemente gli costruisci la casa gli dai da mangiare da bere poi lo metti a lavorare che può essere quello che va a caccia quello che va a raccogliere le bacche quello che va a buttare giù la legna semplicemente gli fornisci gli strumenti e poi anche creare quello che fornisce gli strumenti naturalmente come Medieval Dynasty base e tu crei questo tuo piccolo impero con le quest con la trama perché tu vai a parlare con gli NPC che ti danno delle trame vere e proprie ed è incredibile che sia tutto online incredibile dovevamo iniziarlo stasettimana solo che poi dopo è uscito Lego Lego Fortnite quindi mi sa facciamo prima quello però sicuramente è un po' più strutturato da quanto ho capito di Lego Fortnite eh sì Lego Fortnite non c'ha è un endless sì no ma infatti mi è piaciuto tantissimo e mi ha dato veramente un senso di di pace mi è piaciuto tantissimo giocarlo anche perché in realtà io ho 70 ore col gioco base tra cui penso di averlo ricominciato 3-4 volte perché purtroppo durante le beta buttavano via tutto e dovevi reinstallare e ricominciare e il fatto che sia così in coppia e così bello mi ha dato proprio gioia e che devo trovare qualcuno con cui giocarci e quello è il problema perché se non so da solo non ho più la gioia che speravo di avere è giustamente per esempio no mi è uscito è morto moro eccomi non è vero aspetta eh forse credo ci sono le stagioni sì assolutamente sì esattamente come il gioco base e sì invece io poi ho cioè hanno shadow droppato durante TGA The Finals sono contento perché mi sta piacendo tantissimo io sto aspettando una modalità dove ammazzo la gente e basta non credo uscirà mai eh lo so lo so non lo so in realtà eh no non credo uscirà mai no beh oddio dai se l'hanno a un certo punto introdotta anche in Battlefield il CQC normale senza eh perché magari metti metti una porzione o fai una mappa a parte robe del genere ma il problema per me è proprio avere l'obiettivo che devi portarti in giro lo scatolino è proprio bello per quello perché te ti devi portare in giro lo scatolino ma attraverso i palazzi no lo so lo so è che sono da solo boh no da solo fa cagare il cazzo eh lo so quello che io te lo giochi in team o è tosta eh però è proprio proprio divertente ci abbiamo giocato un po' non è non è diverso dalle beta perché nelle beta già funzionava bene eh a parte che eh L'Eyes of P cos'era? Coreano vero? mi pare di sia coreano e i coreani devono attenzione devono ricordiamoci che sei responsabile di quello che dici devono insegnare al mondo come fare i videogiochi per quanto riguarda l'ottimizzazione verissimo ok perché l'Eyes of P e questo qui girano di un preciso e fluido e questo qui è bello cioè è proprio bello da vedere e tutto completamente distruttibile e non fa un non ha un'incertezza e gira 120 fps tutto a cannone con l'RTX quindi devono insegnare a tutti gli altri come cazzo fare i videogiochi perché da quel punto di vista lì L'Eyes of P sono caduti su altri piccoli però beh però se non fossero stati loro col cazzo che usciva così L'Eyes of P anche hanno dato bene ascolto alla community e hanno aggiustato un gioco nel giro di una settimana poi dopo però parlava dell'ottimizzazione no no è che dopo ha detto che ha altri cazzi sì però fortunatamente l'hanno l'hanno anche sistemato parecchio esattamente sì beh sì anche le files hanno fatto più beta cioè hanno usato le beta come si dovrebbe usare una beta hanno usato le beta però non è che appunto cioè era già a posto nelle beta infatti non è che è cambiato così tanto hanno aggiunto una mappa delle cosine però il gioco è rimasto quello eh la mappa guarda io purtroppo non mi sono divertito per niente non perché fosse un brutto gioco the finals ma perché non mi dà la verticalità non mi dà divertimento e poi l'hanno tutti detto con le analisi per anni e anni di videogiochi che il il muovere in verticale il mouse è la cosa meno naturale che la gente fa soprattutto negli sparatutto sarà perché siamo nati con giochi dove ti potevi solo girare orizzontalmente esattamente l'abitudine ha fatto in modo che tu non non guardi in alto ma come nella vita vera cioè tu nella vita vera è raro che guardi in alto se non ci sia un motivo invece a destra e a sinistra è molto più naturale farlo però sarebbe bello avere un motivo se ce l'hai guardi in alto esatto se non ce l'hai non c'è motivo la mappa che c'è adesso nuova del casino è molto orizzontale effettivamente non ci sono i palazzi alti no io ho odiato la mappa dei tetti la mappa quella è terribile è terribile quella mappa là perché poi non si distrugge tutto tutto in quella mappa lì quindi devi per forza muoverti andare nelle scale salire sui muri no più o meno si distrugge tutto tutto no è per cambiare sui tetti quindi non si può distruggere quella dei palazzoni alti tu dici allora non quella dei tetti scusami sì quella dei tetti e tutto puoi radere al suolo tutto quella dei palazzoni alti dove in mezzo ci sono anche i ponti e c'è tipo il trenino tra virgolette che passa fuori e gira sai che non mi ricordo se c'era il trenino non è un trenino sono delle piattaforme che passano c'erano due mappe quella che sembra Parigi le strade di Parigi dove si insorge tutto quanto e l'altra e l'altra che è quella dei grattacceloni tra virgolette quella lì un po' si difficilotta più che altro perché anche da distanza anche perché è un gioco dove da distanza non giochi troppo nel senso non puoi sparare da distante si svolge sempre molto a media distanza e corta distanza a meno che non è un cecchino ma il cecchino non è così tanto utile quindi si quella mappa lì non è se però va già l'altra quella tipo stile Parigi dove anche lì comunque vai sui tetti cioè ci sono le case tutte a due piani sono si però puoi distruggere tutto si quindi puoi entrare da sopra insomma comunque se ti impegni credo anche nell'altra puoi distruggere cioè il palazzone se ti impegni perché perché c'ha una bella base grossa ma se tu la distruggi tutta va giù tutto è credo quasi infattibile però se tu la distruggi tutta quello lì va giù tutto credo dici? beh è la mappa il palazzo cioè tu le strade non ci puoi andare in quella mappa lì non mi importa come? cioè il fatto è che non è mai cioè non è Minecraft perché volano lì le robe però non è che se tu distruggi la base crolla tutto ai mille pezzi no tu distruggi la base fa ah ok o comunque o comunque fa si distrugge ancora un po' ma rimane in piedi la maggior parte dell'edificio se crollano i pezzi crollano i piani sì perché se no non avresti più la base per camminare cioè le macerie non gliene frega un cazzo al gioco se non hai più la base per camminare ti ritrovi in certe condizioni dove c'hai un piano così un altro piano così e le macerie così per gli amici ascoltatori sta facendo vedere delle cose con le mani in pelle vendicolare facendo tipo il gesto diagonale nella vagina va bene e ti ritrovi a infilarti in mezzo ai calcinacci letteralmente però questa cosa qua gatto ha la velocità della luce in uno soprattutto folle ripeto se dovessi ammazzare e basta sarebbe il mio gioco se dovessi uccidere e basta lo giocherei tantissimo perché mi sta piacendo tutto e che andare in giro con la scatola in mano che palle più che altro in tre cioè io non c'è un gioco dove posso giocarlo da solo voglio giocare da solo e ammazzare tutto quello che si muove neanche in squadra proprio tutti contro tutti ridatemi l'arena io voglio uccidere la gente eh chissà dove è finito X Defiant eh ma ma cazzo era andato così bene X Defiant e poi hanno detto eh ma su console se ne a quanto pare no fammelo uscire solo su pc Ubisoft funzionava così bene eh Buraci l'unico gioco che funziona bene bastardi fatelo uscire dov'è manco doveva fare un culo skull and bones doveva uscire a settembre doveva uscire X Defiant dell'anno scorso no non stanno c'era ancora gente che pensava che skull and bones fosse simile a Sea of Thieves che dice ti ricordi che durante la conferenza ma non è neanche più simile a Black Flag no ma no non è mai stato non è mai stato simile a Black Flag cazzo all'inizio era la parte navale di Black Flag è ancora così è quella no non è più neanche così praticamente adesso c'è un bot beh più o meno più o meno il gameplay alla fine è quello cioè navichi con la nave e spari addosso alla gente quello lì è eh no ci sono i le robe giganti adesso cos'è le robe giganti cosa ho capito cos'è ci sono le cose eh che vuol dire quindi è un coccodrillo luminoso eh vabbè ci sono anche i ma sì però il gameplay è quello cioè gestisci la nave come in Black Flag e quasi gli spari però non è che ti cambia è GTA sull'acqua no è un gioco di navi ma che avevi visto infatti anche durante la conferenza si vedevano tre navi no e la voce fuori campo ha detto il team da tre giocatori e qualcuno in chat ha scritto ma come tre giocatori la nave è piena di marinai no perché pensavano fosse come no no sono tre navi tu guidi la nave è un gioco di navi però mi ha fatto strano che fossero proprio tre non quattro mi ha proprio stranito come the finals c'è tutto tre perché perché sono stronzi gatti ma perché noi termos siamo tre ecco siete rimasti tre infatti tutti i giochi sono calati di uno per ora sono calati o sono aumentati di uno perché prima era da due adesso è diventato tre cioè aspettate che rimango solo io i giochi saranno tutti single player beh non vedo l'ora però dai in realtà il canale di termos è una battle royale aspettate esce questo school and bones che dai eh boh ma io non lo proverò io non so se voglio provarlo scale perché è un gioco di navi io non so se posso dirlo perché lo posso provare bravo moro mamma mia è sempre Ubisoft eh io lo proverò questa settimana però non so se posso dirvi di più ma hai già detto tutto cosa vuoi dire di più scusa il giorno e l'ora ho capito e noi che lo farò in live e quindi non so noi sicuramente noi sicuramente lo proveremo poi quando però no no è che io lo posso provare questa settimana qui è che non so ancora se lo posso dire o meno quindi potremo parlare domenica prossima ecco volevo dire questa cosa qua va bene prossima io invece volevo aggiornarvi su due giochi che ho giocato velocemente così magari parliamo dei goti allora uno è Voices of the Void che è un gioco che è uscito da un po' di tempo gratuito Switch che per chi non lo sapesse è un gioco dove tu lavori simuli il lavorare dentro un osservatorio circondato da antenne paraboliche questa mappa enorme piena di parabole e il gioco è consiste nel prendere i segnali dallo spazio analizzarli e vedere cosa sono ha una base così però anche una sotto base horror perché tu da questi segnali puoi captare delle robe particolari tutto in prima persona insomma non l'avevi già fatto una roba sì due anni fa l'ho giocato è quello lì è quello lì ah ok Moro l'ho riprovato venerdì tu non hai la minima idea di cosa è diventato questo gioco la base è la stessa nel senso tu hai questo lavoro complicatissimo perché ti simula un lavoro molto complicato tu hai quattro computer che fanno quattro cose diverse uno che analizza i segnali l'altro che li scarica l'altro che li analizza il file scaricato con l'immagine l'audio esatto e tu devi ha una micro gestione gigante cioè il gioco è letteralmente la micro gestione di questo lavoro hai server che si possono fottere li devi mettere a posto ma sai che forse io forse l'ho visto perché ho visto da te ma mi sa che l'ho rivisto di recente in effetti da un altro streamer effettivamente non mi è nuovo a questa cosa qui sì e tu prendi si rompono i satelliti devi prendere il quote ma questo c'era anche all'epoca c'era già all'epoca adesso Moro hanno aggiunto hanno approfondito diciamo perché c'era anche prima ma hanno approfondito tutta la parte live sim tu adesso puoi prendere una spugna e pulire i muri e i pavimenti puoi prendere la scopa e pulire la spazzatura puoi prendere l'arredo mettere i post staccarli metterli da altre parti c'è io due ore Moro non ho fatto un'analisi di un ma cosa serve questa cosa serve per immergerti al 100% bravissimo è l'immersività ti dà immersività del gioco ma tanto Moro cioè nel senso che devi anche gestire la però magari no se ti dava che ne so pulire e tenere pulita la zona ti dava adesso per dire sanità mentale perché non vivi in una mera te la dà vera perché tu entri che è tutto una merda Moro ma sai che hanno simulato la spazzatura nel senso che tu vedi gli accumuli di spazzatura che sembrano quelli di background che tu magari clicchi e togli invece c'è la meccanica che se tu li raccogli gli accumuli di spazzatura diventano una palla con la fisica e se tu prendi questa palla e la posi da qualche altra parte si crea lì la montagnola e tu hai la scopa che ti permette di creare le palle e spostarle per metterle dove vuoi tu cioè tu la spazzatura la devi letteralmente mettere nei bidoni se non la puoi cioè se la butti nel fiume si crea la montagnola nel fiume sotto il fiume comunque sono contento che non sia obbligatorio perché ti dà sanità mentale o altro perché quello non aumenta l'immersività aumenta del game la microgestione esatto aumenta del gameplay che in realtà ti rompe poi il cazzo quindi è bene che sia una cosa extra che se tu la vuoi fare la fai se non la vuoi fare non la fai però c'è è che mi fa strano però in un gioco così però da immersività è fatto solo per dare immersività Raffa ha scritto per immergerti davvero dovrebbero darti la possibilità di stare sul divano e non fare nulla poi c'è una panchina fuori a parte che ci sono le sedie tu puoi mettere le sedie e sederti semplicemente e non serve serve solo per sederti fuori c'è una panchina che ti permette di guardare il paesaggio ti siedi ed è davanti al paesaggio con i suoni della natura puoi anche solo fare quello volendo è una roba che mai mi sarei aspettato sarebbe diventata così cioè loro il gioco l'hanno fatto stanno soltanto mettendo l'immersività all'interno è assurdo è così strano giocarlo questo gioco perché è un gioco che non esiste da nessun nel mercato il gioco così non esiste perché perché questa è solo la parte esterna perché poi il gioco vero e proprio quello dell'analisi delle cose ha un altro tipo di profondità perché devi prendere i drive mettere dentro l'audio spostare il drive infatti il tutorial è un incubo cioè il tutorial se tu non hai idea di cosa stai affrontando lo molli lo molli lì il gioco perché il tutorial è follia pura che è solo del lavoro è gratis switch gratis cioè tu gli puoi dare i soldi che vuoi però volendo puoi non dare i soldi e prenderlo gratuitamente ed è un gioco che non esiste da nessun'altra parte un gioco del genere è incredibile incredibile in più ci sono le anomali abbiamo visto una pioggia di stelle cadenti che praticamente ogni singola stella che tu vedevi in cielo stava cadendo ed era bellissimo perché era proprio un evento era un disastro sì però non cadeva sulla terra cadeva lontano ed era bellissimo bellissimo tutto è stata un'esperienza incredibile e non ho fatto un cazzo non ho fatto niente in due ore è stato è stato un'esperienza che non mi dimenticherò mai infatti vorrei farci una 6 barra 12 ore giusto per capito entrare nel mood perché se no non si fa niente in questo gioco qua ed è fuori di testa fuori quanta roba c'è l'altro l'altro è si chiama Tainted Grail of no scusa Tainted Grail The Fall of Avalon non so tu hai giocato quello a turni o quello in prima persona quello in prima persona non male era una merda ingiocabile quando l'ho provato io ok no ah ok ok capito qual è io ce l'ho lì in lista quello in prima dici quello in prima perché è tratto è nello stesso universo di Avalon di Taint of Grail che era un gioco a turni che è un gioco a turni è un gioco più roguelike deck base deck building ed è uscito un altro gioco che è Skyrim esatto fondamentalmente è tipo Skyrim ma in miniatura non male non male davvero lo Skyrim in miniatura è ancora in accesso anticipato quindi stanno sbloccando la mappa piano piano io ho l'ultimo avvio il 6 aprile proprio appena l'avevano rilasciato era ingiocabile era completamente buggato era tutta una merda ti distrugge adesso non mi ricordo benissimo ci ho fatto 43 minuti perché poi era ingiocabile perché dalle immagini le immagini è incredibile allora non è incredibile dalle immagini che sono su Steam è incredibile sì poi quando lo apri non lo è però è così nel senso che io la prima volta che l'ho giocato non mi aspettavo fosse uno Skyrim like cioè con Skyrim in line che intendo gli Elder Scrolls like cioè quelli dove ogni singolo oggetto che vedi lo puoi selezionare raccogliere hai l'inventario pieno è molto meccanico cioè non è un action di quelli tipo Might and Magic dove hai lo scudo e la spada e vai a massacrare i nemici ma è questo gioco di ruolo molto complesso pieno di dialoghi anche con gli NPC poi ci sono eventi ed è per quello che è un problema non avere la nostra lingua sì adesso è molto positiva comunque la no no il gioco adesso funziona perché ci ho giocato un paio d'ore due ore e mezza mi sembra di fila non male davvero è un po' in miniatura quindi pensi che sia molto più grande di quello che è in realtà non lo è però è molto bello e ve lo consiglio perché cioè se volete un altro gioco così non ce ne sono molti no non esistono proprio sì esatto quindi ve lo consiglio perché secondo me a parte che la trama è molto figa la trama è è ambientato nel mondo di Avalon ok e la trama è devi uccidere Re Artù che è tornato in vita perché sono 600 anni dopo la morte di Re Artù ma è tipo tornato in vita e non si sa come mai in un mondo abbastanza horror tra l'altro è molto figo cioè no horror Dark Fantasy esatto quindi ha quell'architettura un po' alla Lords of the Fallen non così spinta però quel tipo di sai gente crocifissa statue senza testa sai tutte quelle cose lì cose molto allegre esatto è molto molto bella quel tipo di fantasy e ve lo consiglio perché anche se in accesso anticipato perché comunque ha un botto di contenuto già e il gameplay è un po' legnosino alla Bethesda insomma l'hanno fatto simile però Bethesda è molto più facile attaccare con le persone qui invece devi tipo calibrare perché prendi un botto di danno poi io lo faccio mago faccio l'errore di fare questi giochi da mago che il mago diventa overpower dopo 400 ore all'inizio Suki come deficiente quindi vabbè parte quello però è anche un po' old school perché sali di livello nelle cose che usi che è una cosa ottima se tu vuoi diventare bravo con la spada usi solo la spada e sali di livello con la spada che è una cosa figa bene eh lo magari me lo riprovicchio anche io allora sì che appunto i tempi non si poteva fare ma adesso hai cambiato mouse secondo me vai giù più tranquillo non ho cambiato mouse ce l'ho da anni ormai questo quindi possibile e vogliamo passare un attimo a una facciamo un velocissimo recamp delle cose più voi avete guardato anche il pre-live sì vi siete recuperati anche il è perché c'è stato qualcosina di interessante assolutamente sì per me sai che il 90% di quello che hanno presentato è stato interessante sai di tutta la conferenza dici c'erano un sacco di roba interessante è andato anche un pochino di date quindi sono stato contento hai un link che magari do un occhio allora io sto guardando con la lista dei trailer magari che non mi ricordo tutto sto guardando da spazio games che c'è anche i trailer aspetta che ve lo ve lo linko qua adesso l'ho aperto non so se è buono però c'era quel sito bello che avevamo usato una volta si chiamava E3 Recap ma c'è è cambiato E3 Recap non so se si chiama ancora E3 Recap 2023 ma l'avevamo usato anche l'ultima volta perché non si chiamava più E3 Recap solo che non mi ricordo non so come si chiama beh sì comunque qua c'è tutto Games Recap ok gamesrecap.io comunque se vogliamo seguire un attimo quello lì che magari lì c'è tutto ed è anche con i trailer messo cioè forse è anche più comodo link a me lo link a me no quello di Spazio Games ah Spazio Games ok perfetto e vabbè vabbè allora è partito subito con il remake di Brothers Taylor Tusson e va bene sì poi Pony Island 2 e qui Karim solo tu hai giocato Pony Island sì non l'ho mai finito però io l'ho giocato come se fosse un one shot anni fa senza sapere che fosse fatto dal creatore di inscription ed era molto figo è stato molto figo Pony Island questo qui sembra avere anche un'estetica perché Pony Island era proprio una forse il primo progetto di Mullins no però credo che i Pony Island abbiano sempre un'estetica arcade però adesso due differenti sì però questa costa 74 centesimi il primo adesso sì però questo qui c'ha c'ha più roba cioè più c'ha anche della grafica pixel art bellissima questa roba qui sembra sembra carino bisogna vedere perché è uno di quei giochi matti nel culo come che è scusa matti nel culo è sempre il stesso concept del gioco metà narrativo che si sfonda e esce fuori dal gioco insomma anche The X è sempre suo e non l'ho non l'ho giocato neanche quello non mi ispirava troppo The X a dire il vero però neanche Pony Island in realtà mi ispira e ce l'ho in lista cioè scusami in libreria proprio ce l'ho poi vabbè Rise of the Golden Idol che purtroppo il primo senza l'italiano quello lì è tosta da giocare quale scusami The Rise of the Golden Idol ah ok non mi ricordo quale devo guardare è quella l'avventura grafica tra virgolette disegnata tutta strana sì che è un investigativo dove devi proprio digitare roba nel primo e quello aveva proprio il problema che ci mancava l'italiano per quello che non l'abbiamo giocato sì esatto perché era troppo breggio Usual June che era quel tra l'altro action molto zoomer come sembrava carino però era quello in stile Spider-Man nuovo sì come movimenti così però esteticamente mi fa proprio cacare a me a me non piaceva come gioco sembrava carino però Armonium The Musical vabbè quello lì fatto per i sordi con il linguaggio dei segni e tutto molto carina come cosa molto carina come cosa sì poi allora hanno fatto vedere questo Wineblown dai creatori di Dead Cell sì e vaffanculo impazzire e tutto vabbè tu gatto sicuramente dei problemi per quale motivo perché isometrica esatto perché Denzel mi è piaciuto molto dai creatori di Denzel ero tutto hypato visto la grafica cartoon che comunque a me piace moltissimo ero tutto contento e poi dopo mi hanno sparato l'isometrica e io ho cagato dal naso a me dell'isometrica cioè c'è Hades che è bellissimo appunto vaffanculo giochetti Hades allora io questo qui non lo so anche questo qui è esteticamente tutto viola tutto vedremo magari però comunque tutto con le spade luminose le robe ho paura non si capisca un cazzo io in questo non sembrava così vedremo vediamo anche coi contenuti deve uscire nel 2024 quindi avete rotto i coglioni con questi roguelike in isometrica io ve lo dico impara a giocare videogiochi madonna sono i migliori game as a service secondo me è vero assolutamente sì è verissimo assolutamente sì anche perché sono quei giochi che se li giochi ti fai una partitella poi lo chiudi senza andare indietro a niente poi Trasher io faccio così con City Skyline che è un gioco bello Trasher è un incubo visivamente è Osu ma non capisco il cazzo poi non so se è VR sì quello lì l'abbiamo visto ed era boh boh non so sembrava proprio VR esattamente però boh Persona 3 Reload vabbè che devo uscire a febbraio Dave the Diver con Dredge sì che ci sta allora sono entrambi i giochi che mi hanno lasciato un po' così più Dredge però sono contentissimo perché è assolutamente un point come collab sì esatto anche perché sono usciti più o meno nello stesso periodo e tutto quindi e l'hanno messa nel gioco giusto secondo me anche secondo me sì poi vabbè World of Goo 2 dopo 103 anni sì io lo giocavo esatto in live ho detto ma io lo giocavo alle medie sul telefono durante la lezione ma veramente ma com'è che è uscito World of Goo 2 a grande richiesta a quanto parte beh magari sì però sono tutti mordi quelli che lo chiedevano eh sono tutti adulti più che altro metafor refantozzi no che è quello di quelli di persona sì che a me ha lasciato una curiosità immensa allora a parte che è un è misto action misto a turni ah ecco ecco perché non avevamo capito perché allora i combattimenti a turni si sono visti con la grafica proprio di persona però tipo nell'open world forse i combattimenti minori così sono quasi muso cioè che vai a sfalciare sì non si è ben capito effettivamente però esteticamente è proprio bello peccato che ha una grafica un pochino peggiore dei persona si vede che l'hanno fatta con meno budget però ha un'estetica veramente figa secondo me cioè c'ha a parte che i mostri anche i persona sono bellissimi vedremo e poi da qui iniziava lo show principale sì c'è stato il primo gioco dopo è stato Exodus quello che sembrava Interstellar da Matthew McGonaghy presentato da Matthew McGonaghy perché c'è Matthew McGonaghy nel coso e sembra veramente Interstellar sì l'ha detto anche ha fatto anche le battutine lui effettivamente però sembra sai che sembra figo cioè sembra molto dritto ma ok avventura lineare sai cosa mi ha ricordato tantissimo Andromeda Mass Effect Andromeda lo shooting le armature speriamo di no però le tute ma secondo me è un po' sottovalutato Andromeda come gioco in sé come non sono sicuro come Mass Effect è una tragedia come gioco in sé è uno di quei giochi che la gente vorrebbe e dice ma perché non fanno un'altra avventura sci-fi no c'è è Andromeda e lì è anche lo shooting migliore di tutti i Mass Effect perché Mass Effect non era fatto per sparare esatto quello che poi è migliorato sempre di più in Mass Effect lo shooting però Andromeda diciamo che come gioco in sé è ottimo è come Mass Effect che è una tragedia è Andromeda è il Dark Souls 2 dei Dark Souls è vero è un ottimo gioco da giocare però era era tutto spaccato rotto di merda all'inizio era un disastro adesso hanno anche cambiato i volti per dire si erano tutti smarellati e mi erano tutti gli occhi come gioco di fantascienza forse a me la trama non è anche dispiaciuta mi ha ricordato Starfield mi ha ricordato un po' la trama di Andromeda per certi versi però cioè è lì capito perché poi la gente dice ma come Mass Effect che non c'era niente sì però c'è Andromeda però sì comunque anche questo qui si è visto appunto questi umani poi ci sono contro non mi ricordo come li ha chiamati tipo celestiali e robe del genere quindi c'è anche come trama mi intriga un pochino di più appunto alla Mass Effect nel senso ci sono anche altre civiltà e robe del genere mi interessa se se è una cosa lineare con una bella trama raccontata bene ci sta perché no poi vabbè gente che ha pure esultato per God of War Ragnarok Valhalla vabbè dove hanno aggiunto hanno aggiunto la modalità più brutta del God of War del 2018 allora io lo sapevo già di Valhalla e c'è stato un momento abbastanza imbarazzante in live perché l'avevano credo liccato e quando ho visto World Premiere e poi dopo il logo Playstation ho fatto solo perché sei esatto non ha proprio fatto A ha fatto U è molto peggio però non volevo non volevo dire che cos'era perché non volevo fare delle console war nel 2023 ancora e certo anche perché non è più una guerra è un massacro per entrambi dico che ormai è un macerio più o meno Microsoft Microsoft non sta guadagnando una lira ma va da dio Sony guadagna soldi ma non c'ha i giochi va da dio Microsoft insomma cioè che cazzo ho buttato fuori va da dio come beh no nel senso come servizi come robe ah no ok io parlo però da giocatore mi serve il contenuto certo e come no si si no dico è vero ah ho capito non è vero no è vero è vero comunque vabbè è un free DLC quindi e ovviamente anche qui roguelite certo siamo contenti di questa merda che continuano a darci è un gioco mastodontico di 60 ore a cui hanno aggiunto una roba a chi piace il gameplay ecco cioè che secondo me una modalità roguelike dovrebbe averla tutti i giochi a parte se ti piace quel gameplay dovresti smettere di videogiocare non è vero non è il gameplay di Ragnarok no non li dovremmo parlarne e che dopo e che farci pure la modalità roguelike no secondo me è la parte peggiore dei due Ragnarok dei due God of War nuovi è il gameplay sono d'accordissimo il gameplay è al pelo per essere funzionale secondo me nel diciamo Ragnarok in particolare perché è uscito quest'anno o l'anno scorso non mi ricordo quest'anno quest'anno è uscito Ragnarok oddio no l'anno scorso mi stai mettendo in dubbio l'anno scorso l'anno scorso no sì l'anno scorso scusami sì 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 ragione perdonami vabbè 2022-2023 va benissimo secondo me è insufficiente il gameplay nell'anno scorso è vecchio è vecchio no però secondo me è stato sfruttato cioè è sfruttato di merda però secondo me il gameplay non è brutto no è usato del cazzo il fatto che tu debba mettermi dei segnalini per avvertirmi che i nemici neanche dietro a lato mi stanno attaccando è perché il tuo gameplay è così limitato sì 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 vecchissimissimo era frustrantissima quella cosa lì su anche perché poi c'erano le cazzo di arene lì dove quando c'erano più di un nemico era impossibile era un macello esatto e non va bene è lo stesso problema di Spider-Man per me è lo stesso more of the same con nemici avalanga cioè io mi sono proprio rotto i coglioni fortunatamente Ragnarok non era così no ma infatti ma è stato peggio Ragnarok infatti e Spider-Man 2 mi sono piaciuti entrambi sia God of War 1 che il primo Spider-Man tantissimo e il secondo è stato un boccone difficile a buttare giù solo che in Ragnarok mettendolo a facile e tu andavi in giro come un tritacarne minchia non è vero questa cosa vabbè se non facevi le cose in più no mettendolo a facile senza farle cioè senza farle perché comunque anche a facile nel 2 che non sono le valchirie sono i re di vivi si chiamavano come cazzo si chiamavano minchia vai in giro come un tritatutto a facile non fai niente però quasi cioè a facile modalità trama chiamala come cazzo ti pare non lo so non so se c'era una modalità così tanto facile ho messo così e mi sono goduto la trama comunque Spider-Man comunque arrivava all'infinito tutta quella roba lì e mi sono proprio rotto i coglioni perché è un gameplay vecchio che andrebbe aggiornato soprattutto la cosa che più mi ha dato fastidio in God of War che anche in Spider-Man però Spider-Man è open e arrivano proprio le ordate in God of War c'è corridoio stanza con Orda corridoio stanza con Orda che coglioni lo vedevi proprio quando c'era l'Orda perché era tutto bellissimo l'ambiente e poi a un certo punto si apriva un cerchio e tu dici oh merda arrivano da tutte le parti sti cazzo cioè è proprio roba vecchia veramente vecchia con gli stessi quattro nemici la modalità roguelike è letteralmente quello tra l'altro appunto la tipostanza di Isaac ma come puoi volere ancora quella roba lì è incredibile la gente piace la merda no no piace quel gameplay quindi hanno fatto ma secondo me ripeto tutti i giochi dovrebbero avere una modalità cioè i giochi a cui mi piace giocare proprio a livello di pad alla mano dovrebbero avere una modalità infinita tra virgolette poi comunque dopo sono passati a big walk oh big walk che non si è capito benissimo che bello cos'è però sembrava molto interessante con questi pingu queste paperelle quelle che pucciano e quella del tasto H dei simpson esattamente suscita curiosità diciamo perché poi non capisci benissimo cosa devi fare guardando il trailer però sembra ti devi infilare nei buchi con gli amici no da quel che han detto è proprio ti metterà in situazione dove devi parlare per vedremo non si è capito un caso però è carino con questo dualismo tra grafica iper realistica e loro che sono delle palle cartone esatto sì poi Hellblade 2 dove finalmente è andata una data generica perché altrimenti li uccidevano se non davano almeno la parvenza di sapere quando farlo uscire l'anno prossimo annunciato nel 2019 lui se non sbaglio eh probabile sì in gran pompa magna da microsoft che se l'era preso tutti contenti e mai più niente poi se lo sono scordati sì eh no è comunque uno studio piccolo che anche con i soldi di microsoft a quanto pare non stanno facendo una roba è incredibile picchissima sembra è fotorealista molto poi a me il primo è piaciuto è molto bello il primo sì sì e questo qui sembra fighissimo sembra quindi vediamo un po' eh aveva le animazioni un po' durette dal trailer ma dai neanche ti dirò allora erano meno del primo assolutamente ok però è un gioco che deve uscire l'anno prossimo ragazzi cioè attenzione vabbè ma non era una merda è comunque un indie è un indie comunque con i soldi di microsoft dietro eh ma anche il team di sviluppo è quello esatto se il team di sviluppo è quello a prescindere no vabbè però comunque le animazioni non erano una merda nel senso no ho detto che erano durette e poi e poi non sono neanche quello il fulcro no è vero questo qui soprattutto secondo me andrà a parare molto di più sul ok però oh e poi se sono se critico Sony e sono boxaro e critico Microsoft vabbè è così allora lo fai solo perché devi fare la controparte però lasciamelo fare poi ha dato il premio per la miglior narrativa ad Alla Wake chiaramente sono contentissimo per i premi che ha vinto Alla Wake perché se li hai meritati veramente sono d'accordo sono stato veramente contento vorrei finirlo sì però per adesso sono d'accordo e poi è arrivata la pazza di X-Tango Gameworks ah sì ma che cazzo ci ha fatto vedere quella matta lì ci ha fatto vedere Kitemmuri no il gioco non si è visto niente ancora però sembrava esteticamente fighissimo con questi oni giapponesi si è capito niente però probabilmente sarà uno strategico non lo so con le carte quando non fanno vedere qualcosa ormai è sempre il rischio strategico sì speriamo sia figo vero dai sì che altro mi dà la paura che sia in isometrica quindi cazzi vostri a me piace a me no The Rest of the Wicked che invece sarà in isometrica mannaggia le loro mamme ci sono questi signori con la testa lunga però sembra fighissimo sembra fighissimo il primo marzo saranno svegliati i dettagli non uscirà dagli autori il primo marzo saranno svegliati ok a me attira tantissimo però porca miseria sei in isometrica maledizione loro questa scelta stai zitto scemo vabbè hai finito come si chiama The Tunic è vero dai è vero nonostante le boss fight poi sei un fan di Zelda tutti i Zelda erano in isometrica fino a una certa ma che cazzo dici nessuno Zelda è in isometrica ma che cazzo dici vi siete bloccati il primo Zelda è in isometrica prima di tutto il primo Zelda è in isometrica non è in isometrica certo che in isometrica no è visione d'uccello è diverso l'isometrica è quando c'è la T no è in isometrica bidimensionale è per quello e allora va bene è in isometrica bidimensionale va bene allora ok allora va bene no no quella roba lì va bene dei DS sono in isometrica ma il problema il problema è quando metti l'isometrica cavaliera che fa con l'angolo il diagonale il diagonale mi fa schifo vomito è una merda ma questo non credo sia in diagonale comunque come no no si è in diagonale certo Moro si no nel senso cioè in diagonale però devi mettermi in conto che si muove in quattro direzioni però altrimenti è semplicemente visuale dall'alto poi se se una zona la vedi più perché c'è una scala di fianco non è più comunque dicono tutti che non è isometrica si vede dall'alto quindi non so non è dall'alto non è esatto dall'alto è GTA 1 Zelda non è in isometrica effettivamente assonometria forse non è non è una parola giusta tra l'altro in assonometria allora non dite cazzate assonometria isometrica è vero è giusto no ma solo dire assonometria non credo assonometria isometrica esatto per quello si dice solo isometrica e il capito è in isometrica ma bidimensionale quindi è come se fossero in isometrica ma spiaccicati per terra perché non era 3D per quello era era in isometrica bidimensionale dall'alto è GTA 1 quindi non dite cazzate perché non si vede il cappello di Link esattamente però sai che non sono convinto che sia comunque isometrica quella che dici tu no è una circa isometrica perché comunque era bidimensionale quindi era difficile farlo in vera isometrica però non è neanche dall'alto è a metà strada è tipo cartoncini che tu fai correre su una mappa sono i personaggi in isometrica e la mappa dall'alto più o meno ho cercato grafica Zelda 1 nome certo a parte che devi cercare visuale credo bravo comunque poi hanno presentato in un trailer del cazzo che andassero a fanculo Sega ha fatto questo è vero questo trailer di cinque giochi di remake di Crazy Taxi Jet Set Radio Street of Rage Shinobi comunque si chiama Avolo Duccello è giusto per chiudere questo qua avevo ragione io si chiama Avolo Duccello a posto un uccello che vola un po' strano però si vede ma Avolo Duccello non vuol dire niente è il nome è il nome sì ma volo Duccello non vuol dire perché il volo Duccello può essere in perpendicolare o in diagonale può essere tutto il volo Duccello puoi anche guardare in su cioè non vuol dire niente Avolo Duccello Avolo Duccello vuol dire che non è né in prima né in terza questo vuol dire Avolo Duccello è in alto esatto è in alto anche l'isometrica Avolo Duccello per quello che ti dico per quello ti dico che Avolo Duccello non vuol dire un cazzo l'uccello è il mio uccello ma l'uccello non vuole in diagonale gli parlate bene in italiano si chiama è il nome è il nome è il nome è il nome c'è scritto è il nome è scritto qua è scritto qua la visuale dove ci si trova generalmente è Avolo Duccello c'è scritto c'è scritto c'è scritto qua c'è scritto è leccamelo no volando dai caldo ragazzi dove ti chiamo su stai zitto Moro stiamo decidendo come si chiama sto gioco da merda tra l'altro zelda merda comunque dicevamo ma scusa ma crazy taxi cop Moro ma tutti cioè anche golden axe in 3D che quello l'avevo schippato perché pensavo fosse una pubblicità invece no e invece no cazzo sembrava tra l'altro molto carino golden axe in 3D sai c'è uno di quei giochi un po' easy da giocare vediamo vediamo e poi e altri hanno detto quindi vediamo sì ma una carrellata di merda così perché non mi hanno fatto vedere un cazzo cioè è molto vero l'unico che mi ha fatto storcere il naso con questi due stronzi che giocavano gli andava via la luce e tutto ma fammi vedere i giochi e non perdere tempo bastardo l'unico dubbio è stato Okami che sembrava tutt'altro non è Okami però non c'è non è Okami non lo so Shinobi non so se era Shinobi però c'era il cane di Okami ah ecco ma Okami che c'entra con Sega no ma infatti noi l'abbiamo detto perché sembrava però in realtà non era quello erano tutti arcade era un gioco era è vero che di Capcom Okami un platform però il cane era quello del culo era un cane bianco era un lupo bianco il cazzo c'aveva il frismi sulla schiena ma che f***a meno canne orca Continuiamo poi c'è Dragon Ball Sparking Zero ragazzi ma è Dragon Ball lo salto lo salto non me ne frega un cazzo neanche a me bravo adesso trovo lo screen molto bello sembrava però chi basta lo so che è un lupo ma non lo giocano poi Karim tanto non lo giocano ho scoperto andando online sono andato proprio a vedere i commenti della gente di questo gioco di Dragon Ball che sarebbe il nuovo Budokai ma con il titolo originale giapponese che è Sparkling Water faceva cagare tra l'altro come è stato anche io l'ho letto sempre Sparkling Water ricordo ma lei io avevo annunciato chi si chiamava 4 Budokai Tenkaichi 4 ricordo male era uscito era uscito tipo un'immagine un sacco di tempo fa con tutti i titoli dei Dragon Ball che dovevano uscire e c'era anche questo Sparkling Zero che hanno detto guardate che è il titolo di Budokai Tenkaichi in Giappone ok e io sono andato a vedere i commenti per vedere se ci fosse qualcuno con cui condividere il mio odio sul fatto che sia l'ennesimo gioco dove fanno vedere Goku contro Vegeta nel deserto per l'ennesima volta e a quanto pare sì tutti gli appassionati stanno pregando in un gioco di Dragon Ball che ripercorre la storia di Dragon Ball ma che non inizi dallo Z che inizi da quello prima ma no magari ce n'era uno per DS bellissimo me lo ricordo Dragon Ball Origins no perché ne hanno fatti un po' con la storia del primo Dragon Ball c'era anche un GDR tra l'altro su Advance tipo di Dragon Ball è che quello che diceva Karim mi sa allora Dragon Ball Origins era bellissimo ed era per il DS era bellissimo cioè ci sono anche poi tutti i tornei però questo qui sarà Budokai Tenkaichi quindi sarà e cosa c'entra? mica c'è scritto Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi ma no ma si va sul Super però sarà combattimenti e tutto quindi a parte che andrà sul Super no no certo certo si dici non è un'avventura no ma infatti servirebbe un Kakarot ma infatti quando hanno annunciato Kakarot io speravo che partisse da là ma se la schippano sempre quella parte lì perché la gente vuole vedere i Super Saiyan di sto cazzo ma che due coglioni perché vogliono vedere le botte ma ci sono le botte ce ne erano meno eh vabbè però era bello perché era proprio Son Goku la storia l'avventura Xenoverse 2 perché molti ho recuperato recensioni moderne di Xenoverse e tutti hanno detto che è il miglior gioco di Dragon Ball tra i migliori giochi di Dragon Ball diciamo però non mi piace come è strutturato non ne frega niente va bene vi state bloccando adesso cosa sta succedendo non lo so ma ti ho detto è Twitch che è un po' funziona di culo toglieranno sicuramente anche questa feature che la usi solo tu comunque va benissimo a parte adesso The Casting of Frank Stone il seguito di The Vanishing of It and Cart infatti ho detto cazzo questo qui sembra uno dagli autori di Until Dawn e lo era era super massive sarà un'avventura sperando si attrescione anche questa non voglio assolutamente giocare una roba seria di quel tipo no ok poi Vision of Mana questo sembrava finissimo perché all'inizio io ho detto ma scusa Dragon Quest 12 e e cioè alla fine si nel senso è il Dragon Quest ma non a turni esatto è l'altra saga la saga Mana è Mana è Trials of Mana però dico proprio come gioco è Dragon Quest sembra Dragon Quest ma action che ci sta tra l'altro i combattimenti mi hanno ricordato Ninokuni 2 un po' in un'arena capito con action che tra l'altro i combattimenti di Ninokuni sono fighissimi peccato che Ninokuni 2 sia un po' anche qui sembra figo allungato vediamo poi come ne uscirà 2024 old gen anche perché vabbè c'è una grafica che non sembra c'è una grafica che può reggere effettivamente non è brutta sembra molto bellina no sì però è una grafica che può girare sì poi Rise of Ronin sì con l'uscita 22 marzo che parla che è un'esclusiva guarda che è l'ennesimo mio tra l'altro eh io spero che sia un pelo più pulito perché Wolong mi ha fatto cagare al cazzone eh Wolong è stato un po' una delusione dubito fortemente che sarà così tanto pulito da quello che si è visto sembra no in realtà sembra un pochino più pulito sì però non pulito cioè più pulito è sempre ti minge non li sai fare i giochi per quanto non è vero fanno cagare loro sono la peggior cosa che l'user friendly ma infatti i giochi di team ninja da da Nioh a Wolong sono l'equivalente videoludico di un file excel eh sì sia nei contenuti sia nel gameplay è molto strano nella fruizione esatto no ma è una merda io voglio che i miei diti funzionino sul mio pad ma non solo anche i menù è come imparare il cinese è vero sì è vero non ho le basi non posso neanche di leggere le lettere non ho anche in italiano la mia mente fa fatica come se fosse una lingua che conosco a malapena in i giochi di team ninja è verissimo è così pieno di roba ma io ho trovato una spada perché sto facendo un 740 poi migliore action hanno dato il premio Armored Core Godo Karim tu volevi Remnant 2 lo so no no io sono contento che l'abbiano nominato anche solo sì ne hanno parlato ma non nominato come nomination ma nominato a voce sì sì beh è vero sinceramente sono contento anche io per quello anche se forse stava meglio negli action adventure quasi ma infatti non ha sono d'accordo io ti ricordo che Armored Core è praticamente figlio di Elder Ring come non di Elder Ring scusami dei giochi simil from quindi assolutamente no è Ace Combat Ace Combat scusami Armored Core è Ace Combat ragazzi solo che l'aereo lo puoi muovere anche su e giù e dietro però è no no ti giuro il gioco è Ace Combat le missioni sono è come giocare Ace Combat ok non c'entra una sega con i giochi from la gestione personale a parte il fatto che non c'entra una sega con i giochi from ci sono i boss che ti chiamano gli attacchi che cosa dici ho capito anche anche Crash Band ho capito in Ace Combat però non succede quella cosa lì anche in Ace Combat ci sono i fosse fantasy sarebbe quello va bene anche in tutti i giochi se i boss sono fatti bene ti chiamano gli attacchi comunque seguendo le loro logiche dovrebbe essere in action RPG o RPG no assolutamente no non è RPG non è RPG ero ricordato che cazzo dici no vabbè non ti potenzi tutto selezionando tutte le varie parti non è RPG no anche ti potenzi ho capito anche Need for Speed Underground non riapriamo sta cosa non è RPG ogni volta ogni volta dobbiamo litigare per così non è così c'è stato il casino della prospettiva il volo d'uccello per l'amor di Dio anche perché appunto sono anche Need for Speed Underground è RPG perché ti potenzi la macchina non è non è ma infatti sono d'accordo con te sono molto d'accordo con te no no è un action sono contento perché effettivamente è un gioiellino molto di nicchia infatti io non ci avrei messo la mano sul fuoco vincesse effettivamente è particolare che abbia vinto Armored esatto però sono contento abbia vinto andiamo un po' rapidi perché secondo me siamo hard direction alla Wake 2 godo poi è arrivato Kojima con il suo OD per fare il verso a PT sicuramente perché OD dovrebbe stare per ah di quella roba Karim hai visto hanno fatto un'analisi di loro che entrano nel palco e la porta è la stessa identica di PT ma proprio uguale con la luce sopra con la luce e anche come si apre la porta non lo sapevo però il fatto che si chiama OD due lettere è un verso a è un dito medio pensassi a lavorare sto stronzo anziché fare queste cagate ma vabbè sta facendo due giochi adesso sta facendo un gioco dove si va nello spazio gatto così si dice questo è il famoso gioco esclusivo Xbox e poi è arrivato Jordan Peele sì Jordan Peele e così per un horror io sono ti dico io ero più contento di vederlo lavorare a PT con con quell'altro ma non me ne frega un cazzo con Guillermo del Toro eh sì io adoro del Toro quello che fa come mostri e creature per me su Silent Hill sarebbe stato sì sarebbe stato sicuramente oddino nei mostri sarà molto più psicologico secondo me appunto ma infatti avrei preferito beh con con Peele comunque è ovvio che sarà psicologico io però sono più un fan del mostro vabbè un gusto personale c'è Death Stranding lì sono i mostri tomba beh no insomma è il cazzo sono i mostroni però c'è anche Guillermo del Toro ma lui non è un mostro più o meno però comunque va bene non si è visto un cazzo ma hanno parlato molto di più loro su quella roba lì che non hanno detto niente del gioco rispetto al capo di Larian che ha parlato del del Goti è incredibile si sono lamentati tutti di questa cosa 8 minuti contro 30 secondi era con la musica per cacciarli sì Jurassic Park Survival sembra molto bello sembra non me ne frego un cazzare ma che sei veramente un coglione che rottura non me ne frego un cazzo di Jurassic Park di questa cogliona che scappa dei dinosauri e sparagli maledizione è il giorno dopo gli eventi di Jurassic Park io mi chiedo sta signora dove cazzo era dove cazzo era rintanata sti infame però poi va bene Black Myth Wukong ha dato la data finalmente e sembra una madonna sembra sembra sempre più bello ogni volta che fanno vedere qualcosa però tutti quelli il 100% di chi l'ha provato ha detto eh eh mannaggia speriamo lo abbiano un po' migliorato tutti tutti ci sono anche ci sono viste scene anche dell'Oni lì che recita un po' sembrava Vass di Far Cry 3 è vero però sono fighissime cioè era tutto fighissimo è tutto fighissimo sì però speriamo sia bello anche da giocare perché vorrei facesse l'effetto Lies of P eh vediamo infatti Lies of P eh sì tu sei il squad che hanno fatto un trailer dove facciamo vedere probabilmente le uniche cose le uniche cazzo fighe del gioco perché il gameplay non credo sia cambiato e ti ricordo che qui c'è uno che lo sta aspettando non lo sto aspettando però purtroppo io lo so che finirà come Forspoken c'è come tutti i giochi che tu aspetti sono una merda ha un potenziale eh no è che hanno potenziale io vedo un potenziale dai perché potrebbe essere uno un Saint Row però basato nell'universo DC con superpoteri eccetera però se poi viene una merda io ripeto per me è Crackdown che poi io sono il primo a non difenderli io ho Hype e poi esce Forspoken ed è una tragedia esce Redfall ed è peggio di Forspoken è incredibile adesso vediamo questo perché ha potenziale solo che poi se sono sviluppatori le merda io glielo dico sono assolutamente d'accordo poi Teleos Kenzera che vabbè un metroidvania africano un po' generico un po' generico più che altro era preso pari pari da Ori era delle cose da Ori palesemente Ori sì delle estetiche delle robe era palesemente Ori e Lost Record sarà il nuovo Life is Strange palesemente che lì si è capito nell'istante in cui è partito che dici si piange The First Berserker Kazan che mi ha gasato non me lo ricordo mica più era quello lì animoso è quello che sembra Nier molto anime molto dark fantasy proprio dark dark però aveva un'estetica che mi piaceva un sacco aveva un pochino un un distacco tra ambientazione e loro anime che proprio stonava così tanto a me ha stonato abbastanza quella cosa lì perché si vede a me è piaciuto un botto invece secondo me erano fusi proprio bene in realtà erano fighe le creature no le creature ma anche i personaggi erano fighe c'era la vecchia lì che sembrava quasi di Miyazaki però boh speriamo anche questo abbia un buon gameplay perché se hai visto il gameplay sembrava figo bisogna vedere poi pedala mano lì sempre come al solito tutti i souls like finché non ci metti le mani credo sia impossibile perché sembra veramente figo non ha dato una data né niente quindi vedremo Final Fantasy VII Rebirth con la scammata di Apex va bene e poi Star Rail no e poi Blade e dopo e dopo sì Blade che quando hanno iniziato a parlare ovviamente dovevano erano cosi era Arcane e quindi abbiamo detto oh no un aggiornamento di è Arcane Lione non è Arcane Austin questa eh ho capito però adesso non è che stavamo lì a guardare non è non è non è Redfall quella di però però guarda che all'inizio c'è sto barbiere che si taglia il dito e poi dopo prende in mano la croce poi poi gli escono i denti e poi c'è la luce rossa c'era proprio Redfall non ci ho mai pensato perché lo stile comunque era molto diverso l'hanno fatta apposta allora lo stile era diverso però magari era una cutscene cioè magari era solo un modo per farti vedere ci sono ste robe cioè dovevi pensare hanno rifatto completamente il gioco se era Redfall ma no perché bastava scusa non una cutscene magari era semplicemente un trailer video con un altro stile le cinematics su Redfall erano no ma era un trailer un cinematic trailer vabbè però fosse la prima volta che la fanno sta cagata dai ma dovrebbero annunciare cioè con un trailer così di Redfall avrebbero annunciato il abbiamo rifatto completamente il gioco da zero perché vabbè potevano comunque Blade vedremo non ho capito perché Blade a Parigi ma vabbè lo volevano fare a Parigi hanno detto dove sono i demoni va lui poi vabbè la pagliacciata la pagliacciata dell'anno e credo della storia dei Game Awards mamma mia cioè hanno voluto fare i Game Awards più belli di sempre ma metterci dentro la cosa più pagliacciata di sempre dando il miglior ongoing game a Cyberpunk 2077 allora io a parte il fatto che quando l'avevo detto all'epoca tutti mi hanno detto merda però io lo ripeto Cyberpunk è stato messo nell'ongoing solo per farlo vincere sì 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 perché non aveva nessun motivo per essere ma mettiamolo sul miglior community support al massimo che tanto non vuol dire un cazzo quel premio quindi c'è vabbè poi The Last Last Sentinel cosa l'era? sì non mi ricordo neanche questo Ah quello delle donne robotone però non si sa un cazzo e basta sì era e non si sa un cazzo no hanno detto comunque un open world Tokyo sci-fi tipo vabbè The First Descendant che a voi ha fatto lo scherzo che sembrava Death Stranding sembrava Death Stranding sì 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 che allora credo abbiano preso cioè gli abbiano chiesto in concessione l'ambientazione perché quella è che poi l'ambientazione non è niente sono rocce e però è quella di Death Stranding ma è anche quella di Sonic è anche quella di Sonic Frontiers sì uno a uno vai a vedere un pochino è quella eh un pochino no è che è proprio identica a quella di Death Stranding proprio l'Islanda di Death Stranding ripeto riguardati Sonic e a una certa il personaggio sapeva anche sto robottino che in realtà poi l'ho riguardato la curava però anche il suono mi sembrava quello di Death Stranding e ho detto ma scusa che cazzo hanno fatto a Death Stranding cosa è diventato e poi invece uno nera questo First Descendant che potrebbe essere anche carino sì sembra potrebbe essere carino e non c'è il gameplay quindi vediamo no però potrebbe essere un specie di Monster Hunter tra virgolette un distruggimostroni in co-op oddio non so non lo so potrebbe come no Zenless Zone Zero non so ancora non ho capito come è fatto il gioco di quelli di Genshin Impact waifu waifu sì make a break che è il pezzotto di armor and core sì ma uno a uno proprio stesso a caudì stessi movimenti stesso tutto ma più colorato beh quindi te lo giocherei al day one probabile sì get the fuck out den of wolves cos'era è dai creatori di payday 1 e 2 e sarà un gioco di rapine no è quello di gtfo non è dei creatori di payday no è tipo payday o ha anche degli sviluppatori di payday aveva anche gli stessi aveva anche gli sviluppatori ok sì mi pare di sì sarà un gioco di rapine si è capito una madonna però anche la va bene no era un cinematic trailer quindi non si è capito niente exoborn credo che di più generico non ci sia exoborn era al 100% dei surge però non nessuno era è vero però non era un po' sì asgar vrath è quello è quello vr sì hai fatto vedere la serie tv di fallout il trailer che sembra carino un po' più pazzoso è quello però se mi fanno una bella trama no sì però è un peccato no è un peccato sono d'accordo anche io l'ho visto un pochino più pazzoso e poi l'hype l'hype in assoluto sì sì allora forse con light no fire penso un titolo più brutto non poteva andargli comunque light no fire non vuol dire niente sì come on baby light no fire preso per il culo pure da joff il signor sean murray sì che dice siamo vogliamo essere ancora più ambiziosi ambiziosi si è messo a ridere sinceramente joff in quel momento gli è scappato non non l'ho riuscito a trattenere ma che cazzo dici coglione che dici imbecille infatti dietro le quitte ha dato i coppini fortissimi sì ha detto le sue cazzate sean murray sperando però che abbiano imparato dagli errori è per quello che io un po' ci credo allora secondo me dirlo dopo il casino di nomen sky o sei un malato patologico e probabilmente lui lo è comunque oppure no dai nomen sky è stato aggiornato ed è voluto così tanto lui comunque secondo me non c'è tutto da quel punto di vista lì no però io spero che il reparto marketing qualcosa faccia al posto suo ho visto su twitter sapete come riconoscere un team indie noi restituiamo i televisori perché non c'erano i soldi noi cioè io dopo tutti gli aggiornamenti quello che nomen sky è adesso mi ha fatto capire che hello games sa si sviluppare e sa fare roba è verissimo quindi sono fiducioso nel fatto che purtroppo ancora va bene sui problemi nomen sky non è vero sai io non riesco ad andare avanti sì perché devi fare devi programmarti la partita prima di partire basta togliere io me stemmio non voglio non voglio toccare niente va bene sono d'accordo con Moro bisogna dire perché il gioco deve essere bello basta non è che me lo devo programmare io per farlo bello devi programmarlo devi mettere un'opzione una intanto non poteva essere bello subito perché devo mettere io le opzioni però 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 vabbè ci sta comunque allora ci ho fatto un botto di ore io sono nomen sky sono contento questo qui il concept di questo gioco è 200 volte meglio di nomen sky per me a me preoccupa comunque il fatto che sia generato no il fatto che hai un pianeta grosso gigante immenso dove però hai un pianeta ma poi sarà generato ma continuo rimane quello che ho fatto secondo me sarà no in teoria rimane perché lui ha spinto molto sul c'è un pianeta più grande della terra quindi non è all'infinito è generato proceduralmente però magari io potrei trovare della roba che tu non troverai mai no secondo me sarà procedurale nel senso che è generato proceduralmente una volta da loro eh anche esatto perché non è non lo puoi fare a mano la terra è la stessa cosa che dico io è come Starfield sì esatto eh sì però tutto cioè dove non si dovrebbero ripetere in teoria troppo le robe in teoria no certo però era per dire che loro lo hanno fatto procedurale però ognuno non hai un'esperienza diversa è lo stesso per tutti è un'esperienza diversa in quanto io spono in Italia e tu in Cile e qui e non arriverai mai in Italia probabilmente eh oppure boh spero di sì oppure non sarà perché sennò mi perdo veramente un bel po' del gioco oppure non non sarà così no non lo so non lo sappiamo vedremo chissà vedremo comunque sembra figli quello che ho mostrato sembra una figata incredibile vedremo poi se manterranno sì infatti aspettati Stormgate non me ne frega niente benissimo eh per gli amanti degli strategici i quattro che sono rimasti sì che giocheranno comunque a Starcraft e non a questo nuovo probabilmente verissimo Final Fantasy DLC va bene Shadow Droppato tra l'altro anche quello perché è uscito la notte stessa e poi è andato il secondo Gotia la Wake 2 il secondo posto il secondo posto sì il Game Direction e sono molto contento Shadow Droppato The Finals ne abbiamo parlato prima e poi è il momentone io lì mi sono gasato veramente tanto per poi piangere veramente tanto perché non me lo dovevi fare annunciare per il 2025 eh sì io pianto perché non era World 2 beh ma lo sarà Wilds e World 2 c'era sempre la V2 anche secondo me MHV sarà sempre no è vero sarà sempre MHV secondo me non hanno fatto World 2 giusto per perché non aveva senso fare un seguito diretto probabilmente sì ne hanno chiamato Wilds ma è World 2 però me lo dovevano far uscire me lo dovevano Shadow Droppare la notte stessa no quello no però un 2024 lo avrei apprezzato molto 2025 insomma è un pochino in là mi spiace perché ho voglia però uscirà subito anche su PC che almeno beh come World no il cazzo World è uscito un anno un anno dopo sì 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 un anno dopo come anche Rise e quando cazzo ci avevano giocato ci avevano giocato sulla Play è certo sì però ci ho giocato molto di più su PC quando è uscito perché è anch'io è stato proprio bello giocarlo in Coop su PC poi tanto che merda che dovremmo giocare GTA su console guarda guarda veramente veramente a 30 FPS nel 2025 poi dovremmo giocare su console che ti girerà a 60 col cazzo e poi vabbè ha vinto il GOTY Baldur's Gate 3 indubbiamente no ma io sono contento per questi GOTY perché nonostante le nomination fossero a cazzo di cane i vincitori erano sì a parte forse due o tre sono stati tutti meritati poi due o tre a parte quello di Cyberpunk vabbè Cyberpunk era proprio quello era proprio una pagliacciata era puro marketing gli altri erano opinabili però ci stavano Cyberpunk era proprio fatto apposta per quello Pikmin nei sim era un po' strano era però Pikmin ha anche una roba strana perché non City Skyline cazzo che è incredibile perché io Pikmin l'ho completato al 100% ma gira di merda a te che c'è un hardware di merda no no gira di merda anche a te cazzo dici mi gira benissimo cosa non hai fatto una città decente si vede la mia città io sono in guadagno di un milione al mese sì ma c'è una città così ti gira bene tiro fuori il cazzo no comunque sì non gira a nessuno gira da dio io ho 21.000 abitanti perché sei un console player quindi 15 FPS ti van bene non è vero tutto a cannone tutto a ultra sei tu che hai fatto vincere Cyberpunk ma adesso c'è di tutto però devi proprio dire qualcos'altro comunque non credo non abbia vinto per quello perché non gliene frega un cazzo delle ottimizzazioni no infatti god godi e no va bene va bene bello bello oh GTA 6 ragazzi uscito il trailer ma sì chi sei in culo 2025 cioè uscisse anche solo l'anno prossimo se ne potrebbe parlare però tutti tutti i pezzettini di trailer e riferimenti erano tutti cose vere sì il Joker vuoi dire sì il Joker il Joker della California che gli ha detto voglio due milioni di dollari dobbiamo volare più che altro quello lì ti fa capire il livello medio di certe persone ti fa capire veramente il meme ti fa capire adesso mi aspetto il video della Karen invece con i due martelli che risponde pure lei adesso e no è che lei non è abbastanza giovane da poter accedere probabilmente a questo tipo di cose lui ha fatto un selfie no poi dopo con la tv anche se è messo davanti la tv che poi mi dispiace prenderlo in giro così perché è chiaramente una persona che andrebbe sistemata e accurata non so va bene aiutato bravo bene va bene noi possiamo andare andiamo cosa mangiate? tigelle tigelle ma vai a risolante o le fai no no ce le abbiamo a casa buone buone io ho fatto ieri il brodo mi faccio i cappelletti oggi ah però con questa nebbia i cappelletti mi faccio i plin i raviolini del plin fai? oggi i piemontese i cappelletti i cappellacci fai? quindi i tortellini va bene una pasta ripiena i pizzicotti questi non esistono invece i ravioloni sì dobbiamo chiudere gatti va bene sì 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 c'era Enrico dicevate ma sì ma io vi manderei anche da da Enrico cioè andiamogli a dire tortellini in brodo ditegli sono meglio i ravioli del plin no ditegli i tortellini sono la stessa cosa dei cappellacci dai dai così mi insulta in dai lo fate incazzare caro il mio modenese aggiungete anche ciao a posto